Allora, buongiorno, benvenuti e benvenute a tutti e a tutte, con vera piacere che iniziamo questa mattinata per celebrare insieme il World Logic Day. È una data importante, la logica come vedremo fa parte della nostra vita anche quando magari non ce ne rendiamo conto. La mattinata, come sapete, sarà divisa in due parti. Avremo una prima parte che sarà animata da professor Marco Piazza, Carlo Cosmelli e Paola D'Aquino, che sono un filosofo, un fisico e una matematica e che insomma ci parleranno a vario modo dei paradossi. E poi avremo una seconda parte dopo una pausa in cui premeremo i saggi vincitori della seconda edizione e avremo una piccola intervista con gli studenti e la studentessa vincitrice e con i colleghi che hanno lavorato nel secondo concorso. Io passerò subito la parola al collega Lorenzo Tortora De Falco, che vedete collegato da remoto. Questo purtroppo non sta benissimo in salute, quindi non poteva essere fisicamente presente con noi, ma è comunque con noi grazie alla tecnologia e alla logica, perché insomma i computer sono fatti di questo. Quindi che deve moderare, insomma doveva introdurre questa mattinata, quindi gli cedo subito la parola per l'avvio dei lavori. Buongiorno a tutti. Intanto mi scuso, mi dispiace molto di non essere lì con voi, ma non sto bene, potete forse anche sentire dalla mia voce, quindi non era proprio possibile fare diversamente. Questo come ha detto Francesca Gambetti, questa mattinata è il primo momento della giornata che viene organizzata a Roma 3 nell'ambito di questo World Logic Day, che dal 2019 su iniziativa dell'UNESCO è stato istituito il 14 di gennaio di ogni anno. Quest'anno l'Associazione Italiana di Logica e sui applicazioni, l'AILA, ha deciso di coordinare le iniziative italiane e di orientarle, anche se non esclusivamente, però principalmente, verso le scuole per sensibilizzare i più giovani all'argomento. Noi a Roma 3, oltre a questa mattinata, abbiamo organizzato un'attività di formazione per gli insegnanti della scuola primaria, che si svolgerà presso il Dipartimento di Matematica e Fisica nel primo pomeriggio, e in serata un aperitivo di logica che si terrà presso la libreria Tomo a San Lorenzo, in cui ci sono alcuni giovani ricercatori e giovani ricercatrici che presenteranno alcuni dei temi di ricerca attualmente attivi nella ricerca logica. La tavola, torvenendo alla nostra tavola rotonda, sempre nell'anno 2019 con la collega Francesca Gambetti, abbiamo deciso di rilanciare un'iniziativa per le scuole sul tema del paradosso. Voi, penso, sappiate che è uscito il bando anche per quest'anno, che a breve troverete sulla pagina, sul sito dedicato. Le date importanti ve le do, le scuole devono inviare una manifestazione di interesse firmata dal dirigente scolastico entro il 15 di febbraio, e poi il progetto entro il 30 di aprile. Il progetto, come sapete, probabilmente consiste nella presentazione e discussione di uno o più paradossi, sotto forma di articolo scientifico o di poster, ci sono due categorie. Vorrei ringraziare molto i tre oratori che hanno accettato di prendere parte a questa tavola rotonda e dire qualche parola di introduzione sul tema del paradosso, poi lasciando naturalmente a loro gli approfondimenti. Sempre di approfondimenti si tratterà, però dobbiamo essere consapevoli che si tratta di un tema di grandissima complessità e anche interesse di cui si potrà solamente sfiorare alcuni aspetti in questa discussione di oggi. Io partirei proprio dalla etimologia della parola paradosso, perché è proprio in questa accezione che abbiamo pensato anche tutti gli interventi di oggi, ma più generalmente tutta questa iniziativa. Quindi non tanto nel senso stretto in cui a volte può essere inteso internamente a una disciplina, cioè con l'accezione di contraddizione, ma piuttosto di con l'accezione di qualcosa che è contro la doxa, contro l'opinione. Quindi un fenomeno, un risultato sorprendente. I paradossi ce ne sono in tutte le discipline, però certo, se ci interessiamo alla questione generale del paradosso, cos'è un paradosso, qual è la sua struttura interna, certamente siamo in pieno nel campo della logica. Soprattutto se la si prende con una formulazione che io trovo... Questo punto di vista sta a sottolineare il fatto che, in particolare per il paradosso, siamo su di un crinale. Ora, davanti a un paradosso, possiamo sicuramente essere incuriositi, questa è la prima reazione, ma non bisogna neanche negare il fatto che in generale sia spesso infastiditi, perché un paradosso turba, mette in crisi qualcosa, sfida, una qualche presunta autorità, un dogma forte, un dogma naturalmente del momento nel quale è storico in cui appare questo paradosso. Quindi si può dire che un paradosso, io lo vedo così, è prima di tutto un punto di resistenza, un punto di inciampo, qualcosa che non dovrebbe esserci, però c'è e non possiamo eliminare. E allora, da qui si può delineare un percorso che in fondo è proprio quello che vi invitiamo a fare a voi quando lavorerete su questo argomento. Il primo passo è semplicemente quello di accettare questo disagio, questo fastidio, senza avere fretta di liberarsene, in un certo senso anche di vivere questo disagio, questa impossibilità di liberarsene, e poi con il tempo necessario provare a comprenderlo. faccio presente che questo tempo necessario nella storia della scienza può durare secoli, e anche che questo comprendere, di nuovo vorrei intenderlo nel senso etimologico del termine, e cioè contenere in sé, abbracciare, racchiudere. Che cosa vuol dire abbracciare un paradosso? Vuol dire farlo rientrare nella nostra visione del mondo, o di una disciplina particolare, nella storia della scienza questo è accaduto. E per fare questo è quasi sempre necessario estendere la nostra visione del mondo, quando non addirittura capovolgerla. Certamente quando questo accade, in generale, il pensiero fa notevoli passi avanti, e schiude nuove strade. Un paradosso. Esempi concreti ne vedrete a breve. Posso solo citarne uno come paradigmatico del percorso che dicevo. Un paradosso dell'infinito, noto e arcinoto. Il tutto non è maggiore di ogni sua parte, si può formulare così. Questo, già Galileo si era reso conto, che i quadrati dei numeri interi, degli interi naturali, sono tanti quanti gli interi naturali stessi, pur essendo un insieme molto più piccolo, strettamente contenuto. E lui quello che concludeva era che l'insieme degli interi naturali è inconcepibile come infinità attuale. Abbiamo poi dovuto aspettare molti secoli per scoprire con Cantor che l'infinito può essere graduato, che ci sono infiniti, infiniti diversi, e proprio grazie a questa scoperta, che quindi parte da un paradosso, è nata la teoria degli insiemi, che non è altro che una teoria dell'infinito matematico. E sempre verso la fine dell'Ottocento, Dedekind capovolge addirittura Galileo, e ciò che era un paradosso diventa la definizione di insieme infinito. Cioè un insieme infinito esattamente quando una sua parte propria è grande quanto lui. in matematica, diciamo, è adesso equipotente. Questa è una definizione positiva di infinito, quindi non più l'infinito come negazione del finito, ma piuttosto il contrario, il finito è la negazione dell'infinito. E questa definizione positiva di infinito segna il passaggio, direi definitivo, dall'infinito potenziale dei greci, cioè un insieme infinito quando non è esauribile, ad esempio perché contando non arrivo mai alla fine, all'infinito attuale. E' interessante sottolineare che le due nozioni di infinito attuale potenziali sono equivalenti se si accetta l'assioma di scelta che è alla base di molti dei paradossi della matematica ed è esso stesso una maniera di esprimere l'infinito attuale. Qui insomma un paradosso, io direi che prima di tutto una testimonianza perché punta il dito su qualcosa che non vediamo ma di cui testimonia l'esistenza, pone delle questioni fondamentali che spesso sono pensate e ripensate nei secoli e sappiamo, per chi l'ha praticata un po', la scienza sa che le domande sono più importanti delle risposte, spesso almeno, e spinge a esplicitare, un paradosso spinge anche a esplicitare i principi spesso nascosti e pieni di presupposti impliciti di una particolare disciplina o di una particolare teoria di una determinata disciplina, permette di criticare questi principi e di inventare cose nuove e quindi apre nuovi interi settori in bella conoscenza. L'ultimissimo aspetto su cui mi voglio soffermare è quello didattico formativo del paradosso che vi riguarda molto da vicino e qui lascio la parola a un logico italiano, Roberto Magari, che ha scritto negli anni Ottanta la seguente frase importante è che si dia ai giovani il gusto del paradosso. Non è difficile trarre spunto da un argomento qualunque per introdurre paradossi vecchi e nuovi, i paradossi ci permettono anzi di entrare in settori della logica che una trattazione organizzata introdurrebbe molto più tardi. Ecco, lo scopo principale alla fine di questa iniziativa è proprio quello di istillare nei giovani in voi questo gusto del paradosso. Va bene, a questo punto lascerei la parola ai nostri oratori che credo si concentreranno ognuno nella sua disciplina sul tema del paradosso con un occhio particolare al concetto di misura. se procediamo con l'ordine che avevamo immaginato comincia Paola con i paradossi della matematica Paola D'Aquino Allora, buongiorno a tutti e benvenuti grazie dell'introduzione a Lorenzo e io parlerò di questo famoso paradosso di Banak-Taschi magari voi non lo conoscete però è un risultato molto importante e scrivevo appunto paradosso non paradosso perché rientra fra quegli esempi a cui faceva riferimento Lorenzo non è un paradosso che ci porta a una contraddizione piuttosto è un esempio di cosa può succedere inaspettato che dà luogo poi a sviluppare ulteriori sviluppi Allora, innanzitutto già come aveva ricordato Lorenzo vediamo che nell'infinito nell'infinito si pongono sorgono cose strane sebbene noi nella vita quotidiana lavoriamo sempre con il finito ma è importante avere a disposizione l'infinito specialmente nella matematica i nostri ragionamenti devono avere a disposizione l'infinito e questo che succede ho riportato due esempi uno in più rispetto a quello di cui parlava Lorenzo se partiamo dai numeri naturali possiamo costruire delle biezioni sia con i quadrati come aveva detto Lorenzo prima quindi mandiamo zero in zero uno in due due in quattro e così via e questa corrispondenza è bionivoca si dice bionivoca cioè iniettiva e suriettiva e così pure possiamo mandarlo nei quadrati scusate nei quadrati e nei pari raddoppiando anzi mi soffermo su questo raddoppiare quindi raddoppiare comporta che viene a essere identificato un sottinsieme proprio perché i pari sono contenuti strettamente nei numeri naturali perché ci sono anche i dispari però li possiamo mettere in corrispondenza e così anche per i quadrati quindi questa è una prima cosa che non crea però alcuna può sembrare strano ma funziona è così e ora passando da questo semplice esempio vorrei andare a ci trasferiamo nella geometria che cosa i poligoni li conoscete tutti e quindi diciamo che due poligoni sono congruenti per dissezioni opero questa uso questa parola un po' presa in prestito dalla medicina dissezioniamo un cadavere quindi lo facciamo a pezzi forse a scuola conoscete di più equiscomponibile se quindi diciamo che due poligoni sono congruenti per dissezioni se noi li possiamo scomporre in un numero finito di poligoni e poi li ricomponiamo senza alterarli cioè non li vogliamo allargare non li vogliamo restringere così come sono quindi mediante solamente che possiamo fare rotazioni traslazioni in modo da non alterare la forma e danno un altro poligono quindi questo diciamo che sono congruenti per dissezioni e questo metodo era stato già era ben noto già dai greci anzi lo utilizzavano anche per determinare le aree dei poligoni vediamo un esempio questo è carino abbiamo un quadrato suddiviso mi sembra siano sette parti e possiamo risistemarle ricomporle metterle insieme in differenti modi otteniamo così non so questa si può assimilare a uno assimilare a uno assimilare a un'ochetta forse un'oca qui un ballerino una ballerina qui un gatto qui un'altra questa forse è un cigno e questa è un'ochetta direi e questo è un coniglio i prezzi li ritrovate facilmente e come aree queste hanno la stessa area cioè la somma delle aree di questi pezzetti in cui è stato scomposto il quadrato quindi parliamo di area come già qui abbiamo un concetto di misura come anche qui nell'esempio precedente abbiamo come misura la quantità delle cose poi vediamo cose più un po' più geometriche che a voi sono ben più note sappiamo che un triangolo questo blu con altezza H e una base di lunghezza L ha la stessa area di un rettangolo che ha la stessa base e metà dell'altezza quindi basta trasferire muovere questo triangolino rosso lo poniamo qui su e quest'altro triangolino rosso lo poniamo qua così anche possiamo è stata dimostrata utilizzando questa scomposizione le dissezioni per dimostrare il teorema di Pitagora qui abbiamo il quadrato costruito sull'ipotenusa lo suddividiamo in cinque parti e ciascuna è ottenuta quindi abbiamo ritroviamo il quadrato che è costruito su un cateto e le altre quattro che provengono dal quadrato costruito sull'altro cateto in effetti si possono fare tante costruzioni qui ne ho riportate alcune perché sono quelle forse che conoscete conoscete l'avete visto oppure ci si può lavorare su un parallelogramma un parallelogramma è congruente per dissezioni a un rettangolo fatto così si taglia questa parte la poniamo poi che cosa abbiamo qui un rettangolo è congruente per dissezioni a un quadrato da considerare che questo quadrato non è non ha lato la metà il mio disegno non è proprio preciso si può costruire questo pezzo questa lunghezza è più lunga del lato del quadrato ora non ho fatto io bene i conti quando ho disegnato questa figura però più in generale si può dimostrare che ogni poligono è congruente per dissezione a un quadrato e ancora di più si può dimostrare ancora di più alcune cose conviene un buon suggerimento portarle farle rendersi conto di come si può fare e nel 1903 Dudenay ha dimostrato ovviamente quante parti quanti pezzi in quanti poligoni posso decomporre per esempio un triangolo e ottenere un quadrato e qui ci sono degli studi ovviamente vogliamo andare a minimizzare vogliamo trovare il minimo numero di pezzi in cui devo dividere ed è stato dimostrato appunto che è sufficiente dividere un triangolo equilatore in quattro pezzi e poi andarlo a ricomporre in un quadrato così per un quadrato ed un esagono il minimo numero è cinque pezzi e quindi per transitività possiamo dire che un esagono è equiscomponibile con un triangolo perché passiamo via un quadrato quindi tutte queste cose il risultato generale che si ottiene è questo che due poligoni sono congruenti per dissezioni se soltanto se hanno la stessa area ovviamente queste parti se io non le perturbo troppo le ruoto le traslo non cambia l'area quindi questa è ovvio una implicazione che se sono congruenti per dissezioni allora hanno la stessa area il viceversa invece è un po' più impegnativo però si può fare bisogna tutto ridurre si può ridurre tutto a triangoli a insiemi di triangoli non è proprio immediato però lavorandoci si può fare e quello che si può anche dimostrare è che in effetti non sono necessarie le rotazioni ma semplicemente le traslazioni non sono risultati immediati questi invece Hilbert all'inizio del novecento non so se sapete aveva posto 23 problemi al convegno internazionale dei matematici che tuttora vengo viene accade ogni quattro anni in cui vengono assegnati quelli che sono i Nobel per la matematica che si chiamano le Fields Medal e sono per giovani che si sono distinti nel campo della matematica per risultati ottenuti prima dei 40 anni quindi bisogna essere molto giovani per poter ambire a una cosa del genere e fra i problemi di Hilbert c'era il terzo che chiedeva se si può estendere quello che avevamo visto prima nello spazio invece che in dimensione 2 se andiamo a dimensione 3 cioè dati due poliedri regolari dello stesso volume è possibile dividerli in un numero finito di poliedri più piccoli e riassemblarli in modo tale da ottenere passare da uno all'altro questo non è possibile la risposta venne subito da questo matematico Dan che era poi uno studente di Hilbert non è possibile per un tetraedro e un cubo non possiamo pur avendo la stessa area non li possiamo suddividere in poliedri e fare la stessa cosa di quello che succede per il triangolo e il quadrato occorre qualcosa di più cioè se hanno una volta che sono decomponibili nello stesso numero ci vuole un invariante in più un qualcosa in più identificato da Dan non solamente il volume tutto questo ok e ora arriviamo non so io con i tempi arriviamo a quello che il teorema io lo chiamo teorema perché si dimostra che cosa può succedere le cose un po' finora tutto ok quello che stupisce un po' che è stato dimostrato questo negli anni 20 da questi due matematici Banach e Tusk entrambi di origine polacca però Tusk viveva negli Stati Uniti Banach viveva in Polonia li possiamo presa una sfera si può suddividere in un numero finito di parti e riassemblare i pezzi riassemblare i pezzi ora qui non parlo più parlo solamente di pezzi questo è importante riassemblare questi pezzi in due sfere che hanno lo stesso volume della sfera iniziale e quindi che cosa arriviamo a dire che non è vero che quando dicono la matematica è sempre tutto funziona quando vi dicono la matematica uno più uno fa sempre due no non è vero uno più uno può fare uno come in questo caso quindi non è vero che uno più uno fa due sempre ora questo viene denominato io l'ho chiamato teorema viene denominato paradosso perché stupisce e no siete sorpresi immagino però non c'è niente di falso quello che è alla base è il concetto di misura ora qui è un po' più tecnico però per darvi un'idea per misura avete la nozione di lunghezza di aria di volume però si può estendere anche che cosa vogliamo della misura deve essere una funzione che a ogni sottinsieme associa un numero reale positivo e che gode di alcune proprietà una l'abbiamo già la seconda l'ho già espressa prima cioè con movimenti che non deturpano la forma si mantiene la misura così nel piano rotazioni e traslazioni se stiamo nel piano e poi vogliamo l'addittività sia essa infinita o finita ovviamente infinita è una richiesta maggiore in effetti vorremmo che questa funzione poter associare a ogni sottinsieme di r al cubo o anche di r una misura ma questo non è sempre possibile e questo è un risultato in cui è una conseguenza della sioma di scelta che aveva nominato anche aveva già menzionato Lorenzo con la sioma di scelta ci sono sottinsieme anche della retta reale che non sono misurabili a cui non possiamo associare una misura però allora otteniamo anche questo teorema utilizzando la sioma di scelta costruiamo queste due sfere dello stesso volume di una sfera data e allora sembra che la sioma di scelta sia perché andarlo a prendere perché lo vogliamo considerare se ci crea queste cose che alla nostra immaginazione sono difficili da accettare beh perché si è rivelato in tanti contesti fondamentale in tanti contesti matematici dall'analisi alla geometria all'algebra alle cardinalità se vogliamo confrontare cardinali infiniti abbiamo bisogno della sioma di scelta e quindi sulla bilancia si accettiamo la sioma di scelta anche se ha delle conseguenze che magari non sono intuitive ci forniscono cose strane ma questo può stimolare ulteriore ricerca ulteriore pensieri ulteriori studi ci può incuriosire ad andare avanti e allora che cos'è la sioma di scelta è un modo per se avete tanti insiemi ovviamente infiniti insiemi come dicevo prima quando noi lavoriamo pensiamo nella vita di tutti i giorni ci confrontiamo sempre col finito ma abbiamo bisogno di considerare anche cose infinite e quindi la sioma di scelta ci garantisce che riusciamo a beccare un elemento in ciascun insieme come in queste infinite caraffe riuscite a beccare un elemento in ciascuna e non è costruttivo non vi dice come lo dovete fare come si fanno le scelte però vi garantisce che si può fare un altro esempio che forse questo è un po' più si capisce forse di più se avete infinite paia di scarpe e infiniti paia di calzini con le scarpe se io devo scegliere un elemento in ciascuna da ciascun paio una scarpa da ciascun paio di scarpe un criterio ce l'ho o prendo tutte le scarpe destre o prendo tutte le scarpe sinistre no voglio prendere una scarpa in ciascuna qualcuno mi guarda male devo come faccio devo usare un criterio come faccio a scegliere ma ve lo dico io prendiamo tutte le scarpe destre qualcuno può preferire di prendere tutte le scarpe sinistre ma se io invece questi sono calzini anche se l'immagine non è molto bella ma i calzini non ho nessun criterio sono uguali i calzini o li mettete a destra a sinistra il piede non vi fa male invece se scambiate le scarpe vi fa male non riuscite a camminare e i calzini allora occorre l'assioma di scelte in modo tale che io riesca a beccare un calzino in ogni paia ovviamente se hai tre paia di calzini lo fai la mattina scegli quale calzino mi metto quello che mi piace di più ma nell'armadio non avrai infinite paia di calzini questo discorso ci serve quando andiamo a trattare l'infinito appunto già nell'insieme dei numeri reali si può costruire si può costruire esiste non è che si può costruire esiste un insieme che non è misurabile questo è l'insieme di vitali che si ottiene mediante l'assioma di scelta non so quanto tempo ho quindi viene definita sull'intervallo 0-1 una relazione che mette identifica due elementi se differiscono per un numero razionale questa si dice una relazione di equivalenza un esempio la possiamo fare anche qui una relazione di equivalenza metto fra di voi associo coloro che sono nati nello stesso mese questa è una relazione di equivalenza non sto a dare le definizioni poi magari con gli insegnanti forse l'avete già visto oppure potete approfondirlo ma viene a essere caratterizzata una proprietà soddisfatta da elementi in un insieme quindi vengono ripartiti in classi che sono disgiunte e l'assioma di scelta mi fa sì che io possa pescare un elemento in ciascuna di queste classi di equivalenza e così costruire determinare l'esistenza di un insieme non misurabile questo risultato si può estendere anche a dimensioni più grandi con lo stesso procedimento e in effetti anche qui per la dimostrazione del teorema di Banach del paradosso di Banach-Tarsky si usano più o meno cose molto più complicate una dimostrazione complicata che coinvolge vari aspetti della matematica vari campi della matematica assolutamente non dico nulla però come è possibile che riusciamo almeno darvi una spiegazione dobbiamo rinunciare ad avere nella suddivisione della sfera parti che sono che hanno un volume esistono esistono insiemi non misurabili così non otteniamo contraddizione perché questi insiemi non misurabili non contribuiscono al volume non contribuiscono al volume e ci permettono di spezziamo questa sfera in insiemi disgiunti che vengono ottenuti mediante rotazioni nello spazio rotazioni intorno a due assi e quindi questi punti sulla sfera vengono separati e riassemblati e questi sotto insiemi sono alcuni sono non misurabili e quindi non contribuiscono al volume in effetti poi si può anche dimostrare che sono sufficienti solamente suddivisione su cinque pezzi cinque sotto insiemi e poi cosa vabbè sì do una prima conclusione quindi dal teorema di Banaktaschi possiamo dedurre si può dedurre ho messo giù un poco di conseguenze che un cubo può essere suddiviso in pezzi e poi riassemblati in modo tale da avere un tetraedro cosa che Den nel 1903 aveva detto non si poteva fare con i poliedri no non si può dividere un tetraedro in un numero finito di poliedri riassemblarlo in modo tale da ottenere un cubo ma se noi non vogliamo poliedri poliedro ce l'ha un volume se noi consentiamo anche pezzi che non hanno un volume questo si può fare poi che cosa volevo dire nel sempre lavorando su questi aspetti Taschi nel 25 pose un problema che era già noto un problema dei greci dato un cerchio in un piano è qui scomponibile con un quadrato avente la stessa area cioè questo è il problema della quadratura del cerchio e sappiamo non esiste si dice non esiste un cerchio che abbia area pari a quella di un quadrato e questo con le metodologie utilizzando appunto insiemi che non hanno misura Laskovic nel 1990 quindi abbastanza diciamo recentemente con i tempi ha dimostrato che invece si può fare utilizzando solo traslazioni neanche rotazioni però dobbiamo utilizzare insiemi che non hanno misura avere misura pone dei vincoli troppi vincoli invece dobbiamo rilassare questa evitare questa ipotesi e consentire anche insiemi nella suddivisione che non hanno che non apportano non contribuiscono non apportano volume e possiamo fare la quadratura del cerchio cioè scomporlo e ottenere un altro poligono di aria uguale che sia un cerchio e questo non è in contraddizione con quanto detto dai greci e comunque lo slogan finale è che uno più uno non fa è uguale a uno ok mi fermo qua grazie ragazzi ragazzi però non è un alibi se poi nei compiti in classe che vi assegnano i vostri professori scrivete uno più uno quale uno non vi appellate a banartaschi perché non è possibile poi prendete quattro lo stesso allora vi ricordo che adesso noi diamo ai nostri oratori la possibilità di esporre il paradosso la questione ma poi ci sarà un secondo giro nel quale potete fare domande richieste di chiarimenti sia da parte dei colleghi ma soprattutto da parte degli studenti Lorenzo che facciamo passiamo la parola a Carlo Cosmelli al fisico volevi dire qualcosa no 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 andiamo pure avanti passiamo ascoltiamo i paradossi della fisica prego buongiorno a tutti ok si sente sì perfetto allora come hanno detto i miei colleghi io parlerò dei paradossi fisici allora intanto due parole su che cosa intendo io per un paradosso fisico allora un paradosso in genere questa è una delle tante definizioni è una conclusione evidentemente inaccettabile che deriva da premesse evidentemente accettabili per mezzo di un ragionamento evidentemente accettabile e quello che vedete sotto è lo schema ho delle premesse ho un ragionamento ho una conclusione ma questa conclusione è strana cioè c'è qualcosa che non mi torna e questo per esempio è stato trattato nella relazione che mi ha preceduto cosa intendo per paradossi fisici sono sempre affermazioni ma l'oggetto è un aspetto del mondo che ci circonda quindi non tanto una questione puramente teorica ma qualcosa su cui abbiamo esperienza e ritorniamo qualcosa che posso misurare e questa misura non mi torna quindi questo io intendo con paradosso fisico e poi aggiungo un altro paradossi sperimentali mentre il termine paradossi fisici lo trovate in rete paradossi sperimentali no diciamo me lo sono inventato viene usato perché è l'opposto cioè nel paradosso voi partite da un discorso e poi nel paradosso fisico arrivate a una misura qua il contrario voi partite dal fatto che avete degli strumenti fate un esperimento è l'esperimento non torna con che cosa con il buonsenso con la logica quindi è l'opposto bene e adesso la cosa difficile questo è il foglio che io vi ho dato c'è un elenco di paradossi fisici potrebbero essere molto di più allora per ognuno di questi se io volessi spiegarlo mi servirebbero un'ora due ore sei ore otto ore o così via quindi chiaramente non possiamo spiegarlo quello che farò è vi chiedo un'operazione complicata io accenderò qualcuno di questi giusto vi darò qualche punto qualche punto interessante poi se volete potete approfondirli mi mandate un mail sentite i vostri docenti per cui non vi aspettate che io vi spieghi tutto perché non è possibile come ha fatto prima la mia collega ha dato qualche punto allora partiamo con uno dei più antichi la freccia di Zenone i famosi paradossi di Zenone sul moto anche qua vado in breve perché mi interessa poi un'altra cosa cosa diceva Zenone diceva la freccia nell'aria appare in movimento ma in realtà è immobile il punto è che il tempo questo è un bisognerebbe guardare bene ogni singolo termine però il tempo in cui la freccia si muove è fatta di singoli istanti di durata zero e quindi sarà immobile in ognuno di essi quindi in movimento la somma di istanti di riposo e la freccia non si muove questo è il paradosso mentre è ovvio che la freccia si muove qual è il punto scusate qual è il punto il punto è che questo è il punto matematico un intervallo di tempo finito che è quello in cui noi vediamo muovere la freccia non si può pensare come la somma di istanti di durata zero questo è il primo punto l'altro punto che è più delicato è questo Zenone suppone di guardare la freccia in un certo istante bene se io guardo una freccia con un oggetto in un certo istante oggi mi manca la voce non ho informazioni sul moto cioè guardate quelle due foto una è una foto di una palla da tennis sul tavolo l'altra è una foto di una palla da tennis sul tavolo che si stava muovendo qual è quella che si muove? non lo potete sapere perché la foto ci dà un'informazione sulla posizione il moto vuol dire conoscere la velocità quindi non lo posso sapere da qua viene l'altra domanda vi ho detto che qualunque paradosso poteva essere steso ma cos'è il movimento? non ne parleremo l'unica cosa che voglio dirvi è che questo esempio che sembra banale perché vabbè io dico che la freccia non si muove è chiaro che se io vi sparo poi prima o poi la pallottola arriva per finta perché non è banale è perché anche se il paradosso viola quello che vediamo e poi uno si chiede sì ma che cosa c'era di sbagliato nella nell'argomentazione dal punto di vista logico sintattico e questi sono alcuni degli studiosi che hanno studiato la freccia sono tanti anche nei tempi moderni di oggi in Aristotele Aristotele è quello che l'ha riportato perché Zenone tutto quello che ha scritto è andato perso Archimede Tommaso Kierkegaard Bergson Weill Russell ci ho messo il cuoricino perché ha dato un'interpretazione molto precisa del paradosso Linz Nugget e non solo ma anche in letteratura se ne parla Borg Stolstoi Kafka Gadda Calvino Carroll a teatro quindi sembra una cosa ovvia non è una cosa ovvia e perché ho nominato il paradosso di Zenone che oltre a essere un paradosso ve lo potete pure leggere in rete è perché oggi si parla dell'effetto di Zenone quantistico e cioè un oggetto microscopico che vuol dire un elettrone quindi descritto dalla meccanica quantistica che si sta muovendo se voi lo guardate in continuazione evolve più lentamente cioè guardare un oggetto lo blocca non completamente e viene chiamato effetto Zenone quantistico non è l'effetto Zenone ovviamente ma diciamo i fisici ogni tanto si divertono a fare dei collegamenti cioè prendere un oggetto e guardarlo effettivamente se è microscopico lo cambia andiamo a Maxwell Maxwell nel 71 propone un esperimento mentale guardate quasi tutti gli esperimenti mentali dei fisici spesso sono paradossi e li trovate in rete con la parola Gedanken Experiment è un'altra maniera di dire che io faccio un esperimento mentale supponendo di poter fare qualcosa e vedo cosa succede se succedono cose strane c'è un problema qual era il giochetto di Maxwell il giochetto di Maxwell era questo ecco qua supponete di avere una scatola con degli atomi tutti a una certa temperatura gli atomi a una certa temperatura hanno una temperatura quadratica media e vabbè forse l'avete studiato che dà la temperatura però ci sono anche atomi più lenti e atomi più veloci cioè non è che hanno tutti la stessa velocità e io qua ne ho disegnati solo due i più lenti in blu e i più veloci in rosso allora che cosa fa questo diavoletto lui si mette qua dove c'è questa porticina guarda le molecole che arrivano gli atomi allora quelle più veloci le fa andare verso destra e quelle più lenti verso sinistra la porticina è senza attriti per cui non spende energia alla fine ho le molecole più calde a destra le molecole più fredde a sinistra quindi ho due temperature diverse questo non va bene io ho il secondo principio della termodinamica se fate il calcolo dell'entropia ho abbassato l'entropia senza spendere energia non è possibile beh qua la soluzione c'è la soluzione quella semplice e io vi ho detto che il diavoletto deve guardare gli atomi ma per avere un'informazione devo spendere un'energia e questo per Maxwell non era ovvio e se andate a calcolare l'energia che dovete spendere per guardare le molecole voi dovete riconoscere se sono caldi o fredde scoprite che a questo punto avete speso un po' di energia avete aumentato l'entropia e alla fine tutto torna cioè il secondo principio vale c'è una soluzione più moderna e cioè il diavoletto potrebbe guardare gli atomi senza spendere energie ma in ogni caso deve immagazzinare il risultato cioè io guardo l'atomo e poi devo decidere se aprire o no la porta e quindi deve aver messo l'informazione in una cella di memoria in un bit al minimo cioè caldo freddo 0,1 bene per fare questo deve aver pulito il bit prima deve aver cancellato questo costa energia questa è la formula trovata da Landauer nel 61 è un'energia molto piccola però esiste è stato verificato sperimentalmente nel 2012 cioè avere informazione costa energia e questo bisogna tenerne conto vedete il secondo principio termodinamica che a questo punto rimane è uno di quelli fondamentali di tutto perché perché vale anche in relatività generale in meccanica quantistica mentre alcune regole della meccanica classica non valgono in meccanica quantistica la relatività generale fa pugni con la meccanica e così via il secondo principio lo trovate dappertutto i muoni problema dei muoni allora i muoni sono delle particelle che nascono in cima all'atmosfera cioè da tutto l'universo arrivano raggi cosmici appena incontrano gli atomi dell'atmosfera producono tante particelle uno di questi sono i muoni che non dovrebbero arrivare sulla terra e invece si arrivano perché allora prima perché non dovrebbero arrivare allora intanto i muoni dal punto di vista della carica sono elettroni cioè hanno la carica meno uno però sono molto più pesanti sono 200 volte più pesanti e in più sono instabili cioè adesso qua vi creo un muone in media decade dopo due microsecondi però c'è un fatto questi muoni in ogni caso vedete vengono emessi a una velocità altissima praticamente alla velocità della luce allora che distanza percorrono beh facile la distanza è la velocità per il tempo di vita 600 metri eppure la metà di questi raggiunge la terra la superficie terrestre in questo momento vi stanno attraversando ogni minuto avete circa mille muoni che vi stanno attraversando i complottistici giocano tanto non è sempre ovvio sapere cosa fa male e cosa non fa male come i complottisti vi diranno che il cellulare è pericoloso vabbè lasciamo perdere ne parleremo un'altra volta il problema è che i muoni dovrebbero percorrere 600 metri ma arrivano cioè questo è il punto se voi mettete un misuratore di muoni li misurate e qual è il fatto il fatto è che questi muoni vanno a velocità altissima quindi mettiamoci siamo noi che stiamo a terra cosa succede che la loro vita media appare dilatata questa è la dilatazione del tempo della relatività speciale io prima avevo usato le forme della meccanica non funzionano a queste velocità c'è un numero che caratterizza la relatività speciale il cosiddetto gamma che è legato alla velocità in questo caso vale 25 io vedo un muone che vive 25 volte di più quindi non 2 microsecondi ma 55 microsecondi e in 55 microsecondi un muone percorre 16 chilometri quindi arriva e questo era il mio punto di vista ma mettiamoci dal punto di vista del muone voi state a cavallo del muone a questo punto voi vivete 2 microsecondi però dovete attraversare l'atmosfera e voi vi state muovendo rispetto all'atmosfera perché andate a una certa velocità il che vuol dire che l'atmosfera si muove rispetto a voi e quindi si contrae contrazione relativistica voi vedete un'atmosfera più corta di quanto solito fattore 25 per il muone l'atmosfera è profonda 600 metri e quindi arriva allora vedete dalla terra voi vedete un muone con la vita più lunga dal muone vedete l'atmosfera più corta tutto sembra relativo ma in realtà è coerente perché qualunque osservatore vede la stessa cosa cioè il muone arriva sulla terra la teoria della relatività guardate che nell'articolo originale non si parla di relatività poi gli è stato dato dopo il nome perché effettivamente spazi e tempi sono relativi ma è una teoria degli assoluti e l'assoluto che cos'è? è quello che osserviamo cioè qualunque cosa osservata deve essere la stessa se io vedo qua un muone che arriva e fa click su un contatore lo devo vedere io lo dovete vedere voi lo deve vedere uno che sta su un aereo tutti devono vedere lo stesso evento bene quanto c'ho ancora? i gemelli i gemelli un altro giochetto relativistico allora qual è il famoso paradosso dei gemelli supponiamo di avere due gemelli che ovviamente hanno la stessa età e che stanno sulla terra a questo punto Alice quando avete due persone nei testi sono sempre Alice e Bob Alice e Bob anche perché così sono A e B Alice parte va ad alta velocità è il famoso gamma e 10 parte arriva da qualche parte e poi torna quando torna per Alice cioè per l'orologio di Alice è passato un anno bene e rincontra il suo gemello il gemello ha visto lei che viaggiava a questa velocità e quindi il tempo di lei lui lo vede più dilatato più grande e per lui sono passati 10 anni quindi se quando sono quando lei è partita avevano tutti e due 20 anni quando lei torna ha 21 anni mentre lui ne ha 30 è un problema è no il problema viene adesso mettiamoci dal punto di vista della donna la donna a questo punto vede il suo tempo però a questo punto la donna vede l'uomo che si muove e allora chi dei due è più vecchio qua la soluzione è semplice non posso usare le stesse formule per l'uomo e per la donna i due sistemi non sono equivalenti perché perché la relatività speciale è scritta per sistemi inerziali cioè fermi o a velocità costante l'uomo sta fermo sta sulla terra che è vero che sta ruotando però da questo punto di vista essenzialmente va a velocità costante e la donna no perché prima sta vicino all'uomo poi parte e quindi accelera arriva fino a un certo punto e torna indietro e poi e quindi ha un'accelerazione e poi riarriva sulla terra e si ferma la donna è un sistema accelerato non posso scrivere quelle formule quindi mettersi dal punto di vista della donna è sbagliato è sbagliato se uso quelle formule deve usare la relatività generale che è molto più complicata alla fine è l'uomo che è più vecchio e non è un parrosso è stato fatto l'esperimento le differenze sono piccole ma è stato fatto non con un uomo e una donna ma con un aereo che andava molto veloce e che poi tornava sulla terra e a questo punto vediamo faremo solo questo luce elettroni e fenditure allora questo è uno schema sperimentale è dall'ottocento che si usa e cioè voi avete una sorgente di qualche cosa sono proiettili onde elettroni torte quello che vi pare una maschera con due fenditure e un bersaglio che raccoglie quello che passa allora voi avete mai sentito parlare di interferenza della luce? sì qualcuno sì qualcuno no va bene se voi inviate un'onda luminosa verso le fenditure che succede? in uscita avete questa cosa qua questa è una foto bande chiare e bande scure perché la luce è un'onda una parte della luce passa da una parte una parte della luce passa dall'altra parte una volta passata la luce si espande in tutto lo spazio e si può sommare o sottrattare perché le onde luminose si possono addizionare o sottrarre e quindi vedo cose del genere ve lo faccio vedere ecco vedete quei puntini là sopra belli non si vedono molto però si sono visti? oh voi dite perché invece delle bande vedo questi puntini così precisi perché di fonditure non ho messo due non ho messo mille serve da aumentare l'effetto quello che si chiama reticolo di diffrazione però avete visto chiaramente che ho delle zone in cui non c'era luce e delle zone in cui non c'era luce oh tanto per chiarire questo è il puntatore da solo vedo un puntino se metto questo ne vedo tanti va bene? ok e questo è un fenomeno che avete con la luce perfetto adesso facciamo lo stesso esperimento invece mando degli elettroni oh non un fascio di elettroni ma un elettrone per volta cioè mando un elettrone può passare può non passare perché magari sbatte arriva sul bersaglio ci ho messo una pellicola poi mando un altro e questo è il risultato queste sono le foto di un esperimento e non è un calcolo e cioè qua avete vedete dieci elettroni sono i puntini a caso duecentosemila duecentomila ecco qua bande chiare bande scure avete un'interferenza che può essere creata solo se arriva qualche cosa da tutte e due le fenditure questo sembra un paradosso perché l'elettrone è indivisibile non ci stanno santi è la particella stabile più piccola indivisibile o è passato da una parte o è passato dall'altra è passato intorno no si può fare un esperimento mettendo degli schermi questo con la logica normale non è accettabile la soluzione c'è beh se lo vedo la devo trovare qual è il punto e a questo punto mi fermo ho finito vero gli elettroni come tutte le particelle microscopiche quando vengono emessi sono descritti da una funzione d'onda un sistema microscopico in viaggio è descritto da una funzione d'onda non è più una particella è qualcos'altro quello l'oggetto che viaggia è la funzione d'onda che ha le proprietà di un'onda e la funzione d'onda può passare da tutte le due le parti è strano sì è strano anche Einstein ci ha combattuto per tanti e tanti anni la meccanica quantistica non è logica sembra dare dei paradossi in realtà è tutto perfettamente coerente ma è perfettamente coerente perché è un problema è parlarne nel senso che io ho detto ma cosa fa l'elettrone da dove passa sto dando per scontato che vi state chiedendo qual è la traiettoria dell'elettrone bene in meccanica quantistica la traiettoria non esiste è una parola che non potete utilizzare e adesso chiudo l'aveva detto Heisenberg di certi termini per esempio posizione e velocità non posso parlarne come l'utilizzo di parole di cui non conosco il significato l'ha detto anche Wittgenstein in altri ambiti però mi fermo qua grazie e se guardiamo bene i paradossi nascono sempre entro uno sfondo intellettuale storico preciso cioè come è stato già detto molto bene da chi mi ha anticipato che ha parato prima sono in fondo e come diceva il professor Tortadefalco sono dei punti di inciampo cioè ci servono per estendere la nostra visione del mondo e che cosa intendo con questo intendo dire che le domande filosofiche fondamentali nascono da problemi posti all'interno dei nostri schemi concettuali ordinari e per tentare di dare risposte sempre più più efficaci a quelle domande i filosofi lungo tutta la storia del pensiero hanno argomentato molto spesso per paradossi tanto che c'è qualcuno che dice che si potrebbero persino studiare le domande della filosofia e la stessa storia della filosofia studiando i paradossi elaborati dai filosofi nel corso dei secoli mostrando come in realtà appunto questi momenti di stranezza diciamo così concettuale siano una parte integrante del processo euristico cioè di ricerca della verità pensiamo e naturalmente voi avete freschi questi studi a Eraclito che denuncia la contraddittorietà del reale come qualcosa di paradossale nel momento in cui un opposto non può esistere senza l'altro e l'unità dei contrari è una guerra universale che avvince ogni realtà è una contraddittorietà del reale che Eraclito ci chiede di accettare e che però Parmenide invece rifiuta negando il divenire e riconducendo ogni incoerenza alla nostra dipendenza dei sensi che ci fa credere nell'esistenza del non essere ovvero che ci siano molte cose che cambiano e si muovono e abbiamo visto come il movimento sia una questione centrale nella storia dei paradossi paradossi di Zenone che appunto Zenone introduce con lo scopo di rafforzare le conclusioni di Parmenide per non parlare di Socrate che ragiona per paradossi tutto il medioevo si confronta con paradossi pensiamo a Per Damiani Tommaso d'Aquino fino a Cartesio che si confrontano con il paradosso dell'onnipotenza di Dio Pascal al cui genio scientifico dobbiamo il cosiddetto paradosso dell'idrostatica considera l'uomo stesso come un paradosso un paradosso vivente ed esclama e cito conosci dunque superbo si rivolge all'uomo quel paradosso che sei tu stesso e gli esempi si possono moltiplicare ora io qui nel tempo limitato che ho vorrei parlarvi di un uso emblematico dei paradossi effettuato da Locke alla fine del seicento per cercare di dare risposte alla questione sulla nostra identità ora è vero i miei colleghi hanno più centrato la questione sulla misura io sposto la questione sull'identità in un certo senso è un problema che prima non si poneva così cioè Locke apre uno scenario nuovo dico qualche cosa in generale sulla teoria dell'identità di Locke che probabilmente alcuni di voi che si hanno fatto già Locke nel programma hanno fresche questi elementi ma non tutti magari ce li hanno poi arrivo ai paradossi Locke compie una rivoluzione soggettivistica cioè quindi in qualche modo mette l'uomo al centro il soggetto ma il soggetto non tanto come quello che vediamo da fuori ma quello che si auto percepisce no? E una rivoluzione soggettivistica in rapporto alla questione della nostra identità cioè introduce una nuova idea di io parla di self non parla più di anima ovvero parla molto di anima ma per poter passare dall'anima all'io quindi non fonda più questo self questo io sulla sostanza su quel termine che per secoli aveva dominato la scena della filosofia che sia la sostanza l'anima quindi una sostanza spirituale materiale o che sia il corpo un'ipotesi che naturalmente viene scartata ma che comunque prende in considerazione la sostanza materiale l'idea a cui lui ancora l'io è l'idea di persona che riprende sì da Hobbes che l'aveva già introdotta ma che elabora in maniera molto originale lo fa ancorando la persona alla coscienza questo perché ritiene che noi umani possiamo identificarci come noi stessi solo a posteriori cioè connettendo lui dice esistenze tra loro lontane cioè in ogni momento presente noi lavoriamo sul nostro passato attraverso i poteri e le capacità della nostra mente e possiamo ricostruire che siamo noi stessi c'è quindi un aspetto psicologico per cui l'io è una persona io come persona scusate è una connessione psicologica fondata sulla consapevolezza e sulla memoria e poi c'è un aspetto linguistico per cui l'io è una costruzione in ogni momento noi ci costruiamo come tali e a lui serve questo perché questo ha delle implicazioni etiche morali e giuridiche fondamentali che lui vuole tenere che sono il suo obiettivo la preoccupazione di Locke non è né di tipo biologico né di tipo metafisico fondamentalmente infatti come vedremo definisce la persona una nozione forense cioè del diritto questo perché soltanto considerando gli esseri umani come persone che hanno quindi una personalità che è anche una personalità giuridica possiamo rendere conto della loro identità solo in questo modo secondo Locke identità intesa comunità come continuità e stabilità qualcosa che prima si agganciava a qualcos'altro all'anima sostanzialmente così come è richiesto per essere sottoposti al giudizio di Dio al giudizio finale quello che avverrà oltre la morte Locke è credente vuole tener ferma la la dottrina cristiana quindi c'è un giudizio finale e un'altra vita per la nostra anima immortale in cui saremo puniti o premiati per le nostre azioni compiute qua la persona è quella nozione che gli permette di elaborare una teoria di identità umana in grado di fondare la responsabilità individuale quindi in accordo con la dottrina cristiana ma per farlo deve smontare alcune associazioni classiche quella tra identità umana cioè identità dell'uomo e identità della persona che a noi sembrano la stessa cosa ma Locke fa vedere che non è la stessa cosa e lo fa staccando l'idea l'identità dell'io da quella della sostanza ed è qui che produce una serie di argomentazioni che sono dei paradossi io uso questo termine in maniera un po' estesa ovviamente un po' lasca nel senso che sono come però riprendendo anche quando diceva il professor Cosmelli qualcosa che è in apparente contraddizione con l'esperienza comune o soprattutto non solo con l'esperienza comune ma con i paradigmi a cui noi siamo abituati i paradigmi di lettura dell'esperienza allora cosa fa Locke vedete alle mie spalle nelle slide nel capitolo ventisettesimo del libro secondo del saggio sull'intelletto umano capitolo che lui ha aggiunto nella seconda edizione perché gli è stato chiesto di chiarire meglio la sua posizione su quello che veniva chiamato in latino il principium individuazionis cerca di mostrare la parados parte da un punto naturalmente è molto complessa è molto ci vorrebbero appunto otto ore per spiegare completamente tutta la teoria di Locke di identità umana c'è una bibliografia sterminata ancora oggi i studiosi non sono perfettamente d'accordo su tutto il significato di ogni passaggio il capitolo è breve se voi lo prendete sta in poche pagine ma è una miniera di argomentazioni comunque io ne ho scelte alcuni punti fondamentali naturalmente con tutti i rischi delle semplificazioni che ci sono in questi casi poi se volete poi potete mandarmi delle mail eccetera posso darvi altre indicazioni innanzitutto Locke cerca di mostrare la paradossalità dell'idea di identità di uomo fondata su quella di anima se la nostra identità dipendesse dall'anima allora in linea di principio Seth Ismaele Socrate Pilato Sant'Agostino e Cesare Borgia sono i suoi esempi potrebbero essere lo stesso uomo ma l'esclusione del corpo e dell'aspetto esteriore cioè di come siamo fatti quella che in italiano antico nelle traduzioni si chiama foggia la foggia di un corpo è davvero strano come facciamo a eliminare qualcosa che è evidente che ognuno di noi ha un corpo diverso e ancora peggio funzionerebbe dice Locke questa ipotesi allora che si ammettesse la trasmigrazione dell'anima cosa che è una teoria che è sempre stata evocata cioè non è un'assurdità la trasmigrazione dell'anima se ne parlava in tanti dibattiti più o meno filosofici teologici eccetera in questo caso lui dice un maiale sceglie naturalmente l'animale meno nobile sarebbe un uomo se potessimo essere sicuri che in quel maiale è trasmigrata l'anima di Elio Gabalo quindi se l'identità sta nell'anima potrebbero succedere queste cose ovviamente paradossali allora è il corpo che ci consente di identificare un uomo e in effetti questo è possibile lui dice anche nel caso che quell'uomo non abbia la capacità di compiere la stessa operazione di identificazione di confronto cioè un conto è ciò che noi vediamo di un uomo da fuori e un conto è ciò che l'uomo dice di sé dal di dentro in altre parole dice Locke noi chiamiamo uomo un essere vivente con una certa forma indipendentemente dal fatto che abbia o non abbia intelligenza oppure abbia quella di un pappagallo cioè è un uomo poi se ha quelle capacità quelle cose che gli servono in realtà per auto riconoscersi non lo possiamo dire da fuori vedete come si comincia a rivedere che l'identità dell'uomo non è la stessa cosa di un'identità della persona quando io dico sono una persona e per dimostrarlo fa un esempio paradossale quello del pappagallo razionale parlante sarebbe da leggere questa pagina che è una pagina quasi di letteratura in cui c'è questo pappagallo di cui che lui non ha incontrato ma lui dà credito a una versione che lui dice super certa di una testimonianza di un certo principe eccetera eccetera che è andato a parlare con questo pappagallo in Brasile probabilmente il pappagallo parlava in brasiliano ma c'era un traduttore quindi è certo quello che ha detto il pappagallo eccetera eccetera una pagina anche esilarante se la leggete e quindi non è un caso inventato cioè Locke ci tiene a dire che esiste un pappagallo parlante da qualche parte nel mondo gli serve non tanto per dire che allora gli uomini che tra gli uomini esistono anche degli uomini con le piume ma per dire che non possiamo agganciare la cosa solo a quelle qualità che sono qualità tipiche dell'anima perché quello non lo chiameremo mai uomo quel pappagallo parlante forse nemmeno lui si autodefinisce come uomo ma questo non è un problema per Locke il problema è che noi vedendo quel pappagallo che si comporta come un uomo a livello razionale non diremo mai che è un uomo quindi ci vuole il corpo ma questo per descrivere l'identità dell'uomo per identificare l'identità dell'uomo in realtà ci sta dicendo che quel quel pappagallo avrebbe le qualità di una persona di quella che lui poi definirà come una persona ma lui non interessa questo perché sa che Dio è garante del fatto che se c'è un pappagallo al mondo che ha la qualità di una persona è un caso è un'eccezione quindi non sviluppa una cosa che a noi potremmo metterci molto in crisi cioè ma allora adesso dobbiamo estendere tutto il diritto a una nuova specie che si sta producendo di pappagalli razionali no non è un problema di Locke però questo gli serve per far capire che identità umana e identità e identità personale non coincidono e fornisce questa prima definizione di persona vedete alle mie spalle un essere pensante intelligente che possiede ragione e riflessione e può considerare se stesso in quanto se stesso in tempi e luoghi diversi in fondo quel pappagallo potrebbe farlo perché ci sia una persona deve pertanto esserci consapevolezza di sé qui la parola chiave e qui bisogna fare tutto un discorso sull'inglese sulla introduzione di questa parola chiave che è consciousness che non è la stessa cosa di coscienza o non si identifica ci sono tutta una serie di dibattiti ma non possiamo farlo ma l'importante è capire che questa coscienza non è una faccenda spirituale ma è una faccenda molto chiara che noi di cui facciamo esperienza io sono consapevole di me stesso e questa non è ancorata alla stessa sostanza cioè cosa pensante perché la nostra mente non pensa sempre e la coscienza è intermittente dice Locke ma potrebbe fermarsi qui invece approfondisce ulteriormente la questione e fa altri esempi paradossali l'identità personale intesa come consapevolezza come consciousness rimane la stessa anche se la sostanza del corpo cambia deve sganciare l'idea che c'è un nesso con la sostanza diretto quindi il nostro corpo cambia noi possiamo ad esempio ahimè perdere una mano ma forse anche un braccio e restiamo la stessa persona quindi l'identità personale non è agganciata alla sostanza materiale corpo e nemmeno quella immateriale anima la coscienza delle azioni passate potrebbe essere trasferita da un'anima all'altra dice lui e dunque l'identità personale si manterrebbe nel cambiamento delle sostanze vado un po' veloce perché il tempo è tiranno e fa degli esempi paradossali mostra ad esempio che la persistenza di una sostanza pensante non è garanzia della persistenza della persona che un tempo era collegata a quell'anima per noi sono cose strane ma fino a quel momento tutto girava intorno alla sostanza immateriale dell'anima tutti i filosofi fino allora avevano agganciato l'identità personale a quella cosa lì e lui fa un esempio che è l'esempio di Nestore qui nella slide è un po' più complicato ma io ve lo semplifico l'anima di una persona potrebbe essere la stessa di Nestore durante l'assedio di Troia ma se manca la coscienza a quel self lì e con essa la memoria delle azioni di Nestore se quella persona di oggi diciamo di oggi 1694 perché ci poniamo nel momento di Locke avesse l'anima di Nestore ma non avesse la coscienza che si accompagna a quell'anima allora quella non è la stessa persona di Nestore più di quanto lo sarebbe dice Locke solo perché il suo corpo contiene alcune particelle materiali che una volta appartenevano a Nestore sono tutti esempi vedete di finzione filosofica sono le famose fiction filosofiche che nel mondo anglosassone hanno un'enorme fortuna e continuano a essere di grande utilizzo cioè pensate il corpo di Nestore si staccano delle particelle non si sa come arrivano nel corpo ad esempio di Locke ipotizziamo per una qualche misteriosa ragione fisica questo può succedere non è la stessa persona perché deve avere consapevolezza esattamente la stessa cosa l'anima in cui loro credevano esiste questa cosa pensante benissimo l'anima sarà la stessa di Nestore che si trasferisce a Locke ma se Locke non ha la consapevolezza di questo non è la stessa persona fa un altro esempio molto famoso possiamo ritrovarci con un'anima diversa avere cioè la memoria e la coscienza delle azioni compiute dall'io che aveva quell'anima qui non è come nel caso di Nestore che memoria e coscienza non si trasferiscono memoria e coscienza si trasferiscono ma non riuscire a non riuscire scusate a giudicarci la stessa persona anche se in un certo senso siamo la stessa persona qui è un paradosso cioè c'è un principe e c'è un ciabattino vanno a dormire per una specie di magia l'anima del principe si trasferisce nel corpo del ciabattino naturalmente sostituisce quella del ciabattino del principe non ce ne occupiamo più tanto è una fiction filosofica ma quando si sveglia il corpo del ciabattino si sente il principe perché non solo ha l'anima ma anche la coscienza e la memoria del principe delle azioni di tutto quello che ha fatto il principe quindi questa persona si sveglia questa persona avete cosa utilizzato questo self si sveglia e sa di essere e si sente il principe non ha nessun problema sono il principe poi però va allo specchio quindi tutti gli altri mettiamo che si alzi i giri per la casa tutti diranno che è il ciabattino lui invece sa di essere il principe poi va allo specchio e ha dei problemi perché il corpo che viene riflesso il volto viene riflesso è quello del ciabattino ma lui è il principe allora loco che cosa ci vuol dire qui lo usa soltanto per un motivo per dirci questo che l'identità personale non coincide né con il corpo né con l'anima di norma si associa con l'identità dell'uomo ma non necessariamente lui dice l'esempio non serve per dimostrare che questo è possibile ma l'ipotesi che si possa fare questo ci pone problemi quindi in realtà la persona del principe è quella quell'uomo lì come persona è il principe e a lui interessa sganciare la persona dall'anima dal corpo e da tutto poi però nella vita normale ci sarebbero enormi problemi perché quella persona non si riconosce gli altri non lo riconoscono per fortuna Dio è garante del fatto che una roba del genere non succederà mai ma potrebbe succedere secondo lui e oppure gli serve per dire che le due cose non vanno insieme in definitiva l'unicità e quanto tempo ancora vado velocissimo in definitiva l'unicità della persona è garantita solo dalla coscienza questo significa e qui fa un altro esempio paradossale che se un self avesse coscienza sia dell'arca di Noè e del diluvio universale sia della gelata dell'inverno scorso 1694 pensate il tamigi gelato quell'io sarebbe la medesima persona a cui appartengono entrambi quei ricordi quindi contro ogni logica contro ogni senso comune chi è che potrebbe avere la coscienza del diluvio universale posto naturalmente che sia avvenuto esattamente come lo scrive la Bibbia ma questo è un altro problema che non ci interessa e quindi seconda definizione di persona lì è una cosa che pensa cosciente una cosa che pensa e vedete che continua a utilizzare cosa che pensa perché non può farne a meno perché deve slittare da un vocabolario a un altro deve costruire un altro vocabolario dopo di lui nessuno userà più quella faccenda quella terminologia lì cosa che pensa in realtà Locke a un certo punto dice forse esistono queste sostanze forse la cosa più semplice ma non importa per l'identità personale dobbiamo sganciarla quindi una cosa che pensa cosciente che ha a che fare con questo stesso io fino a dove si estende tale coscienza qualunque sia la sostanza che lo compone spirituale o materiale semplice o complessa non importa qui il problema è quella questione da cui ero partito cioè io che posso riconoscermi come tale fino a dove le mie capacità psicologiche e mentali me lo concedono io vado all'indietro cerco di recuperare pezzi con la memoria poi c'è tutta una questione tecnica sul fatto che non è solo la memoria ma è anche un'operazione che lui chiama appropriazione per cui io posso recuperare pezzi di cui non ricordo attraverso una serie di passaggi ma non possiamo parlarne cosa arriva alla fine a dire arriva a dire cose di questo genere vedete cos'è l'identità personale è l'identità di coscienza come avete già intuito se la coscienza di Socrate lui dice e qui cito e quella dell'attuale sindaco di Kimbola dovessero coincidere allora bisognerebbe dire che sono la stessa persona così come se il medesimo Socrate desto o dormiente non dovesse condividere la medesima coscienza non sarebbe la medesima persona e poiché si dà il caso che un uomo da sveglio non abbia coscienza di ciò che ha pensato mentre dorme non è giusto punirlo per quei pensieri allo stesso modo di come non è giusto punire uno dei due gemelli vedete che i gemelli tornano spesso nei paradossi per quello che l'altro ha compiuto solo perché sono indistinguibili per il loro aspetto esteriore e quindi il punto è che a lui interessa la questione della punizione della pena perché vedete come moderna la questione ora io taglio una serie di passaggi è molto moderna perché sulla terra possiamo sbagliare e quindi dobbiamo attenerci anche a quel criterio di identità dell'uomo dall'esterno è sempre Socrate che ha commesso quell'azione presumo che la potesse fino a prova contraria la commessa responsabilmente non responsabilmente dobbiamo definire se lui era compo sui conscio sui eccetera eccetera ma Dio nel giudizio finale cosa farà farà in modo che noi non solo ci punirà e ci premierà in maniera perfetta in maniera corretta diciamo così ma ci restituirà quella coscienza totale trasparente dei nostri atti che qui non abbiamo perché noi a volte possiamo rimuovere possiamo avere una malattia pezzi del nostro cervello possono non funzionare più eccetera eccetera tutta una serie di cose umanissime per Locke che è credente deve garantire questo quindi da una parte fonda un diritto terreno e giustifica il diritto terreno e dall'altra mantiene anche quello ultraterreno e quindi nel giorno il giudizio non ci sarà opacità della coscienza vedete come tutto si è spostato da un'altra parte ora questa è l'ultima definizione che lui dà persone a un termine forense per attribuire a ciascuno le azioni e il loro merito e perciò riguarda solo gli esseri intelligenti suscettibili di una legge e di felicità infelicità quindi ricapitolando e chiudo con le sue argomentazioni paradossali Locke fa sì che l'identità personale non sia più garantita da una sostanza e dipenda invece del tutto dalla coscienza qualcosa che per noi è totalmente familiare ma che non lo era nel 1600 questa coscienza la quale unifica costruisce l'identità fin dove può fin dove riesce a spingersi se l'identità fosse la manifestazione della sostanza permanente sarebbe sempre uguale a se stessa e non sarebbe intaccata dal tempo ma la nostra esperienza non è questa dice Locke noi possiamo fare persone diverse nel tempo usa lui questa espressione fare diverse persone nel tempo e allo stesso tempo noi ci sforziamo di tenere unito il nostro io quindi un self che non ha più i caratteri dell'anima e che ci pare molto familiare nella sua labile umanità qui si potrebbero poi fare moltissime passi avanti con Hume che aggiunge altri paradossi alla questione fino ad arrivare a oggi come ha mostrato il professor Cosmelli cioè su Zenone si arriva a oggi anche su queste questioni su identità personale riprendendo Locke Hume eccetera si arriva oggi pensate oggi la questione dell'identità come fluida e come certe categorie elaborate da questi grandi filosofi del passato attualmente rivisitate possono essere molto interessanti apparentemente paradossali ma ci aprono nuovi orizzonti grazie eccoci qua Lorenzo ci sei? ci sono ci sono grazie a tutti e tre del vostro intervento io anche visti i tempi passerei in realtà immediatamente la parola all'aula cioè se ci sono domande curiosità penso che sia il momento di esprimerle altrimenti procediamo col secondo giro non so se c'è qualche precisazione da volete ritornare su alcuni appunti ok bene allora torniamo ci sono domande? richieste di chiarimenti? facciamo arrivare il microfono alza la mano chi domande 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 ragazzi qualcuno ha domande? c'è sempre bisogno di un po' di tempo per carburare perché insomma io sono stata molto sollecitata da tutte e tre gli interventi ma in particolare da quello di Marco Piazza per la mia formazione filosofica naturalmente e le questioni che lui ha affrontato sono che cosa è la domanda poi fondamentale a cui la filosofia si è sempre confrontata che cos'è che fa di un uomo un uomo fondamentalmente tema che al di là dell'identità fluida è ritornato prepotentemente negli ultimi anni con la questione dell'intelligenza artificiale come facciamo a distinguere un uomo da una macchina dal comportamento dalle parole da che è poi la questione ecco forse l'aspetto giuridico è quello che fa la differenza la responsabilità dell'azione quando è che siamo responsabili quando agisce il nostro corpo ma se eravamo coscienti consapevoli non consapevoli la memoria ci siamo scordati abbiamo rimosso quindi non siamo più responsabili insomma le implicazioni sono sempre tantissime e controverse allora però io a questo punto nell'attesa che qualche neurone muoni non lo so qual effetto scenda su di voi ripasterai la parola a Paola D'Aquino per qualche per il secondo giro ma niente potevo semplicemente aggiungere che quello che abbiamo visto è che la sioma di scelta fa fa sì che esistono sotto insiemi della retta del piano dello spazio di altre altre dimensioni che non hanno una misura ora si può è stato dimostrato che in effetti la sioma di scelta è necessario per fare questo cioè senza la sioma di scelta tutti i sottinsiemi di R tutti i sottinsiemi di R quadro hanno una misura questo è stato dimostrato da Solovey nel 1964 quindi utilizzando un metodo che è di teoria degli insiemi per costruire modelli che è chiamato il metodo del forcing quindi la sioma di scelta serve per questo questi insiemi non misurabili e volevo aggiungere anche l'esistenza di questi insiemi non misurabili non è poi così scandaloso o sorprendente come magari all'inizio quando fu scoperto che non tutti i numeri sono razionali la radice di 2 non è razionale va bene che non è razionale ha aperto tante cose un mondo in aspetti molto interessanti e così sia anche l'esistenza di elementi di sottoinsiemi non misurabili devo aggiungere questo dunque ma io sono un po' preoccupato che nessuno ha un dubbio allora o avete una paura fottuta di fare una domanda davanti ai vostri professori oppure siamo stati talmente oscuri c'era una una mano che si era alzata sì io avevo una domanda sul sul paradosso del devoletto di Maxwell sì allora il paradosso consiste nel fatto che se un sistema passa da uno stato di equilibrio disordinato cioè ordinato a disordinato la sua entropia aumenta sì e in questo caso è passato da uno stato disordinato a un ordinato senza apparentemente lavoro però il fatto che il diavoletto per così dire abbia permesso l'accesso a cioè abbia selezionato delle particelle sì è lavoro quello ma infatti questo era il punto questo era il punto che Maxwell non aveva considerato il problema della selezione cioè la soluzione non l'ha data Maxwell all'epoca non era chiaro che per osservare ed avere un'informazione servisse del lavoro ma stiamo parlando del 1870 certo però nel senso io non avevo capito perché a me sembrava molto intuitivo poi lei ci ha fatto vedere che è stato dimostrato sperimentalmente se il fatto che immagazzinare le informazioni abbia in realtà un costo in energia eccetera però cioè in realtà è molto siccome bisogna aprire questa porticina ah no un momento ho capito che intende aprire e chiudere la porticina non richiede nessun lavoro non c'è nessun problema è una cosa che si fa normalmente in qualunque laboratorio di fisica aprire e chiudere diciamo un interruttore uno sportello senza spendere energia basta che per esempio faccio la la porta montata su un binario superconduttore e la posso aprire e chiudere con una molla quindi aprire e chiudere la porta non si può ovviamente non dico sempre se voglio aprire quella porta là ovviamente devo spendere energia ma si può aprire e chiudere una porticina microscopica senza spendere energia quindi in questo senso Maxwell aveva ragione quello che lui non aveva si stava stava nascendo l'interazione tra termodinamica e informazione è che lui doveva guardare la molecola per saperlo quello era il punto quello è quello che richiede energia va bene grazie mille per il chiarimento prego altre domande ok allora se non ci sono altre domande perché mi sembra che una cattiveria allora vi racconto un altro paradosso di quelli che stanno nell'elenco a scelta o quello che tutti conoscono avete sentito parlare il famoso gatto di Schrödinger oppure il paradosso EPR Einstein Podolski Rosen che è interessante perché è uno dei pochi errori che ha fatto Einstein perché Einstein come tutte le persone faceva degli errori ed è quello che ha dato il Nobel della fisica del 22 che volete? il gatto lo immaginavo già preparato allora ci sta? sì ci sta allora il gatto allora il gatto è un esperimento ideale ovviamente anche perché si tratta di avvelenare un gatto per cui non può essere un esperimento reale vi dico subito il punto il punto chiave prima di raccontarvelo molto molto brevemente è questo che del gatto di Schrödinger si chiama così perché ne ha parlato per la prima volta Schrödinger il quale scriveva si possono creare anche casi abbastanza ridicoli un gatto eccetera eccetera e cioè Schrödinger criticava il fatto di poter prendere il formalismo della meccanica quantistica e utilizzarlo per le cose macroscopiche tutto qua qual è il questo esperimento ideale beh si si basa sul fatto che in meccanica quantistica ho delle cose strane per esempio se io fossi un elettrone io potrei uscire da questa aula passando per la porta quella oppure per quell'altra porta oppure posso uscire passando per tutte e due le porte contemporaneamente questo è un concetto che non c'è in meccanica classica è quello che si chiama sovrapposizione degli effetti mentre io Carlo Cosmelli se esco o esco di là o esco di qua non ci stanno santi non posso uscire da tutte e due le porte contemporaneamente in meccanica quantistica per le cose in microscopio esiste questo strano stato che è la somma di due stati è strano guardate che ancora se ne discute perché perché sono regole che sembrano illogiche bene qual è questo giochetto che fa Schrödinger lui dice prendiamo una scatola ci mettiamo dentro del materiale radioattivo questo è tale che la probabilità di avere un decadimento ogni ora è il 50% basta che ne scelgo abbastanza e così va bene ok allora c'ho il materiale radiativo c'ho un contatore che se decade clicca lo registra il clic fa scendere il martello il martello rompe questa fiala nella versione originale c'era il veleno oggi si mette il latte qua c'è un gatto che se per caso l'atomo è decaduto e il martello ha rotto la fiala beve il veleno e muore bene qual è il paradosso il paradosso è che se dopo un'ora vado a guardare il gatto fino a un momento prima lui dovrebbe stare in una sovrapposizione di stati perché? perché applico relego la meccanica quantistica all'atomo e lo posso fare al contatore e non lo posso più fare al martello e non lo posso fare alla fiala e non lo posso fare al gatto e non lo posso fare qual è il punto chiave? perché a questo punto io sto parlando di oggetti microscopici e oggetti macroscopici qual è il passaggio? il passaggio è quante particelle ci stanno cioè io posso pure prendere un sistema macroscopico o macroscopico vuol dire anche un granello di polvere un granello di polvere c'ha 10 alla 10 atomi almeno è veramente grande sono tanti è un sistema macroscopico e crea uno stato quantistico voi dite come? non vi preoccupate io sono sperimentale e so come si fa faccio lo stato quantistico bene quanto vive prima di diventare classico? beh 10 alla meno 20 secondi questa è la ragione per cui voi siete classici io sono classico quantistico i sistemi grandi vivono poco e adesso vi faccio vedere questo e poi lascio allora questo è il decadimento del tempo di uno stato quantistico un po' grande è circa un micron per un micron raffreddato vicino al zero assoluto allora vedete quando questo adesso non vi spiego che cos'è ma quando oscilla fra zero e uno è quantistico man mano che passa il tempo diventa classico questi sono ne sei nanosecondi sei miliardesimi di secondo questi sono i tempi tipici con cui un sistema quantistico diventa classico se sono abbastanza atomi per cui noi siamo classici il gatto di Schrödinger non era un problema perché voleva applicare le regole della meccanica quantistica a un sistema classico sì sì gli fate arrivare il microfono no? bravo sì il paradosso del gatto di Schrödinger deriva dalla nostra definizione di vero o falso cioè per cui se una affermazione non è vera allora è falsa però io mi chiedo non potrebbe essere neutra invece perché per esempio invece di vero o falso prendiamo bianco e nero cioè se io ho un gatto che non è bianco perché deve essere per forza nero può essere giallo rosso o verde allora cioè sì sì ho capito non c'è problema no la domanda è seria però il concetto di vero o falso dipende a che cosa lo applico e cioè se io prendo una moneta e la lancio e gioco a testa o croce o è testa o è croce ma lei mi dirà sì ma poteva cadere così benissimo allora posso mettere da parte i casi in cui cade verticale qua stiamo parlando di gatto vivo o morto benissimo allora andiamo dai nostri amici filosofi qual è la definizione di gatto vivo o gatto morto quando è che decidiamo se è vivo o se è morto diciamo che le sue cellule smettono di metabolizzare se il gatto è un sistema complesso composto da tante cellule e quindi ogni cellula gli applichiamo il fatto che può appunto se l'atomo decade oppure non decade morire o non morire se questo atomo decade e non decade nello stesso tempo la cellula può nello stesso tempo o morire o non morire quindi potremmo avere al 50% cellule morte e quindi al 50% un gatto morto e al 50% cellule vive quindi al 50% un gatto vive allora capisco in realtà le cellule specie quelle del cervello non funzionano così quando al cervello smette di arrivare sangue per più di un quarto d'ora diciamo le cellule muoiono non c'è niente da fare è una questione diciamo medica è la ragione per cui se qualcuno adesso qua gli prende un colpo e si ferma bisogna fargli la respirazione artificiale nel senso che tutto il corpo ha delle cellule che possono continuare a essere vive o morte in questo caso ha perfettamente ragione il cervello e quando noi diciamo vivo o morto in realtà diciamo che se ha o no attività cerebrale purtroppo sono delle cellule molto delicate il caso che fa lei in pratica non è possibile dopo una ventina di minuti che non arriva sangue al cervello le cellule muoiono e muoiono in maniera irreversibile tra l'altro e a questo punto è così purtroppo una cosa quando lei diceva bianco o nero non potrebbe in realtà c'è una soluzione però fa parte degli sviluppi teorici che ancora non non conosciamo e cioè lasciamo perdere il gatto prendiamo l'atomo io dopo un'ora dico che o è decaduto o non è decaduto apro la scatola scusa apro la scatola e vedo che è decaduto la teoria dei multiversi prevede che in realtà nel momento in cui ho due possibilità c'è sempre un altro universo dove c'è l'altra cioè c'è un universo dove l'atomo è decaduto un altro universo dove l'atomo non è decaduto e io sto in uno dei due adesso non so quale quindi lei vede uno lei vede bianco ma da un'altra parte c'è nero e c'è questa filiazione di universi che dal punto di vista teorico è assolutamente accettabile sia chiaro il problema è dal punto di vista sperimentale avere dei ponti spazio temporali negli altri universi paralleli al nostro è qualcosa di molto complicato e ancora non lo sappiamo fare ok è vero però insomma se esiste il vero e sovrapposto falso nella realtà perché non cioè lo possiamo usare anche nella logica normale è una domanda o una affermazione no no è una domanda cioè se è vero che esiste il vero sovrapposto falso perché io non posso diciamo fare una logica del vero sovrapposto falso ah certo che c'è la logica è la logica della meccanica quantistica quella per esempio in cui stiamo costruendo i calcolatori quantistici a livello quantistico sì cioè è strano ma la meccanica quantistica lavora sul continuo in questo senso in fisica classica se avete un bit è 0 o 1 cioè in fisica classica il bit è quantizzato in meccanica quantistica da 0 a 1 c'è un continuo io posso avere 0 posso avere 1 e posso avere una miscela di 0 e di 1 quindi sì in meccanica quantistica posso avere e questi sono gli stati intermedi quindi la meccanica quantistica non c'è problema non non c'è una una definizione assoluta quello che però posso fare è costringere un sistema a stare o in 0 o in 1 cioè se io adesso avessi il suo cellulare e le mandassi un messaggio le arriva e non ci stanno santi bene qua ci sta qualche milione di dispositivi che funzionano con la meccanica quantistica ma non è casuale perché io li ho costruiti apposta in modo da fare in modo che mi diano un risultato certo cioè li ho costretti a stare o in 0 o in 1 e infatti il cellulare funziona benissimo quindi vabbè quindi questo è il fatto sì la meccanica quantistica di base può essere un continuo e io ci ho fatto esperimenti per tanto tempo grazie se posso aggiungere anche io per la logica lo stesso la logica classica ci sono affermazioni vere o false ma ci sono anche altri sistemi logici che prendono valori nell'intervallo 0-1 le logiche non classiche che hanno applicazioni nell'informatica nella logica quantistica anche certo sussistono queste cose bene allora la questione l'avete capito è il problema della misura come facciamo a misurare le cose come costruiamo i sistemi di riferimento con cui noi misuriamo stabiliamo forziamo obblighiamo eccetera e per cercare di chiudere un po' questa prima parte della mattinata e cedere la parola a Marco Piazza direi che il mai più più vero il motto protagoreo l'uomo è misura di tutte le cose l'uomo è il centro colui che crea la misura che crea i sistemi di riferimento che decide se utilizzare il modello 0-1 se utilizzare il continuo se utilizzare la metà e metà e quindi la domanda fondamentale è che come ci dice Locke come facciamo a capire che cos'è questo self che cos'è chi siamo noi che cos'è la persona sì certamente e infatti che cos'è questo self se torniamo ai tempi di Locke le sue teorie crearono molti problemi ad esempio anche dopo Human qui non ci interessa perché sennò complicheremo il quadro un filosofo meno noto che non credo nemmeno si studi al liceo che è Thomas Reed e nel capitolo sesto dei suoi saggi sul potere intellettuale dell'uomo quindi sui poteri della mente critica Locke perché gli dice che è andato alla ricerca della causa dell'identità e l'ha indicata nella coscienza secondo lui che non vuole rintrodurre la sostanza di prima neanche lui ma non riesce ad accettare questo scenario così nuovo dice nella memoria nella coscienza sono cause dell'identità questa identità preesiste la memoria e la coscienza certificano l'esistenza di questa identità secondo lui è insano è pazzo Locke a voler fondare l'identità sulla coscienza vedete circa quasi cent'anni dopo Locke si dice che è pazzo oggi nessuno pensa che sia pazzo perché appunto cambiano gli schemi concettuali queste operazioni paradossali servono per spostare il nostro modo di vedere le cose dice che è pazzo la memoria si rivolge al passato certifica quello che è stato testimoniando la sua continuità mentre la coscienza è circoscritta al presente per questo è continuamente mutevole dice Reed cambia di minuto in minuto è fluida come l'acqua di un fiume quindi la coscienza è l'opposto dell'identità dice Reed ciò che impedisce all'identità di esistere e cito tanto per darvi un'idea di come la cosa faceva problema la coscienza così come ogni genere di pensiero è transitoria e momentanea non ha un'esistenza continua perciò se l'identità personale consistesse nella coscienza di certo ne seguirebbe che nessun uomo sarebbe la stessa persona in due momenti successivi della sua vita e poiché il diritto e la giustizia vedete come torna sempre questa questione il diritto e la giustizia che assegnano ricompense e pene sono fondati sull'identità personale nessun uomo potrebbe essere considerato responsabile delle proprie azioni nel frattempo è passato Hume che ha fatto un'altra operazione di smontaggio notevolissima perché Hume sostiene che l'io il self è una finzione da un punto di vista puramente epistemico non si può parlare di io l'io è una finzione perché lui dice che in ogni istante noi siamo un fascio di percezione un bundle of perceptions ma nell'istante dopo siamo un altro bundle of perception e quindi non siamo la stessa persona in un certo senso da un punto di vista puramente museologico di teoria della conoscenza poi Hume cosa fa sposta tutto il problema e lo vede da un altro punto di vista dice che ci sono due modi di vedere la cosa uno è quello conoscitivo l'altro è quello morale e dirà che noi abbiamo il sentimento dell'io il feeling del self ma non è una questione razionale non riguarda l'intelletto la ragione riguarda il sentimento noi ci sentiamo degli io come aveva detto Locke in un certo senso ma è semplicemente un sentimento e su questo sentimento lui fonda la morale di nuovo quindi vedete come questi dibattiti vanno avanti ora si potrebbe proseguire nelle direzioni indicate dalla professoressa Gambetti intelligenze artificiali eccetera eccetera e vedere come la cosa è sempre di attualità infatti se prendete i manuali sulle teorie di identità anche quelli meno di storia della filosofia il nome di Locke il nome di Hume tornano sempre perché hanno creato veramente uno scompiglio attraverso queste cose paradossali Hume ad esempio nell'appendice al suo trattato dice che lui stesso ha le vertigini e non è sicuro di persino di quello che ha scritto perché in qualche modo ha messo in discussione l'esperienza comune il senso comune non ci sono le parole anche questa è un'altra questione cioè i paradossi ci fanno poi cambiare i linguaggi ma chiudo qui perché se no ci prolunghiamo benissimo grazie allora a tutti e tre per questa bellissima mattinata e scambio allora Lorenzo se tu sei d'accordo ci diamo 15 minuti di pausa allora sono le 11 e 20 posso aggiungere un meccanico non quantistico quindi andiamo alla velocità normale non la luce usiamo macro misure ma puntuali fra 15 minuti ricominciamo Francesca mi fai aggiungere una cosa prima di chiudere Lorenzo dimmi scusa scusate ragazzi un secondo no se è chiuso non importa dimmi non ti sentiamo e volevo ritornare un attimo sulla domanda sul sul vero falso la logica quantistica la voce ti sentiamo lontano allora dici la domanda della ragazza che è stata fatta prima sì mi sentite sì ti sentiamo dico molto rapidamente senz'altro come ha detto Paola ci sono le logiche quantistiche ci sono le logiche fazzi c'è tutto quello che vogliamo e si può fare qualunque cosa e va benissimo però per ridimensionare un attimo anche il fenomeno non ci dimentichiamo che la matematica e nella quale noi dimostriamo i teoremi che fanno muovere i razzi è la logica classica dove c'è il vero e il falso punto che non toglie non toglie valore a tutte le altre ricerche che si fanno alla ragazza perché non sono sicuro che questo sia chiaro volevo sottolineare il fatto che la negazione del bianco non è il nero è ciò che non è bianco quindi è tutto il resto e sul punto di prima insisto sul fatto che il ragionamento matematico classico è quello col quale si stabiliscono ancora oggi le verità matematiche la seconda parte della mattinata come sapete è dedicata al lancio del terzo concorso del concorso appunto pensare il paradosso in matematica fisica e filosofia dopo questa introduzione quindi nel nel mondo dei paradossi premiamo i due elaborati vincitori della scorsa edizione la scorsa edizione non sapete che il bando come è stato detto prevede una manifestazione di interesse che le scuole devono inviare al email indicate nel bando entro il 15 febbraio e poi inviare il prodotto finale entro la scadenza del 30 aprile il concorso prevede due tipi di elaborati uno è l'elaborato classico che è quello del saggio saggio scientifico saggio filosofico o il poster quindi sono due le categorie saggio e poster nella scorsa edizione la commissione con anche un certo rammarico ma insomma ha ritenuto opportuno non premiare i poster ricevuti faccio questa premessa perché ci teniamo molto in realtà la categoria poster perché il poster scientifico è uno strumento importante è uno strumento è un prodotto di ricerca importante che ha delle caratteristiche ben precise sul sito del concorso trovate anche un piccolo vademecum su come costruire un abstract quali sono le caratteristiche che l'abstract deve avere e quindi vi chiediamo nel caso come scuola come gruppo classe scegliate di partecipare a questo bando di concorso e produrre un poster vi chiediamo di attenervi con attenzione appunto a quella indicazione quindi lo scorso anno abbiamo deciso di premiare i due migliori saggi che abbiamo ricevuto e nel premiarli vorremmo che chi ha lavorato la scorsa edizione ci raccontasse un po' la propria esperienza e ci desse anche delle indicazioni dei suggerimenti delle raccomandazioni rispetto anche al lavoro che magari voi vi accingete ad avviare allora chiamerei per prima il liceo democrito il tuo nome Giulia Giulia allora Giulia si è cancellato adesso riattivo tu hai illustrato il paradosso di Olberts allora chi conosce il paradosso di Olberts alzate le mani nessuno allora a me pare ah no qualcuno qualche mano c'è ah meno male allora per tutti quegli altri che non conoscono il paradosso di Olberts Giulia glielo spiega brevemente vai allora il paradosso di Olberts nasce da una domanda che lo stesso Enric Olberts si pose stabilite due ipotesi ovvero che l'universo sia infinito e ricoperto in modo uniforme da stelle di conseguenza la domanda è la seguente perché di notte noi non vediamo il cielo totalmente illuminato ma solo in parte e questo in questo modo nasce proprio questo paradosso e che viene spiegato da tre possibili soluzioni la prima soluzione prevede che l'universo non sia non sia ricoperto in modo uniforme da stelle che se non siano infinite questo però è errato perché va contro la teoria del Big Bang che stabilisce che l'universo sia finito seppur noi non siamo ancora arrivati ai suoi confini e quindi pensare che le stelle non siano infinite è sbagliato un'altra soluzione è quella che proprio Olbers propose ovvero che la parte delle stelle noi non ne vediamo la luce poiché sono oscurate da polveri come nebulose e quindi che bloccano questa luminosità però se così fosse la luminosità queste luci dovrebbero dovrebbero surriscaldare le nebulose che a loro volta emetterebbero luce quindi il paradosso persiste l'ultima soluzione che è quella veritiera è che quella del è quella veritiera veritiera è quella che la luce viaggia a una velocità finita e che quindi la luce delle stelle a noi più lontane non c'è ancora arrivata e questo va a giustificare l'effetto a intermittenza cioè che noi non vediamo tutte le luci un altro fattore della soluzione è che l'universo è in continua espansione e quindi subentra un altro effetto che è l'effetto redshift ovvero che l'universo espandendosi porta all'allungamento della radiazione luminosa delle onde e quindi le onde tenderanno ad andare nell'infrarosso nonché nelle microonde la soluzione del paradosso sta che è l'uomo umano che potendo vedere è l'uomo che potendo vedere soltanto la luce bianca o la luce visibile non è in grado di vedere la realtà per come è davvero grazie un applauso ci sta tutto non è facile tu hai sempre lavorato da sola come hai scelto questo paradosso allora con il professore ne ha proposto il terzo il terzo quindi quest'anno fai il quarto collega ti chiami Edoardo hai proposto alla tua studiante migliore diciamo così no come hai proposto il progetto alla classe e nessuna aderita allora diciamo che io sono intervenuto in una seconda fase perché il progetto l'aveva portata avanti una collega che oggi non è presente la professoressa Benedetto in realtà quello che ho fatto io è stato dare degli input quindi che potessero essere o dei video brevi o comunque appunto proprio delle domande specifiche quella del paradosso di Olbers alla fine è una domanda che noi non ci poniamo io per esempio non me l'ero mai posta diciamo che esatto alla fine sono cose talmente cioè non ci facciamo caso quindi non ci poniamo poi la domanda cioè se effettivamente ha senso logicamente se ci sono così tante stelle perché non vediamo il cielo completamente illuminato di notte quindi è una domanda che uno si potrebbe porre io l'ho fatta anche ai miei amici quindi ho anche indagato scusa tu insegni matematica e fisica matematica e fisica sì quindi ho anche indagato per capire se effettivamente qualcun altro si era posto la domanda sono uscite fuori delle risposte anche molto fantasiose tra l'altro e quindi in realtà io avevo proposto anche altri paradossi per esempio quello dell'asta nel fienile che è diciamo l'analogo del paradosso dei gemelli però per la contrazione delle lunghezze o anche il paradosso di fermi però effettivamente questo era quello più interessante perché tra l'altro anche per una studentessa di terzo liceo anche perché usa degli strumenti c'è una dimostrazione matematica che abbiamo visto che riprende un po' quella dell'intensità sonora dell'intensità luminosa quindi sono argomenti che per realtà si vedono anche a scuola però la dimostrazione è applicata in un contesto insomma un po' più particolare allora Giulia quindi tu sei sempre stata da sola e nessun non sei riuscita a coinvolgere nessun compagno no peccato però perché però invece hai avuto modo di cogliere uno degli aspetti di questo progetto cioè quello di misurarci con un'esperienza laboratoriale e di simulazione di ricerca scientifica cioè che cosa ha rappresentato allora lavorare su questo progetto beh comunque mettersi alla prova con un qualcosa che io non conoscevo quindi mi sono innanzitutto interessata al paradosso che di per sé è un qualcosa di realmente interessante e dopodiché è stato cioè anche di insegnamento lavorare fare un articolo scientifico che non avevo mai fatto quindi è uno degli obiettivi del progetto no? è una bella esperienza quindi su questo almeno siamo andati a segno e consigli per chi si accingerà vuoi partecipare anche l'anno prossimo quest'anno vuoi partecipare da sola con la classe non ci sono limiti eh volendo quindi non lo so comunque di per sé bisogna cioè provare crederci e poi magari trovare un bravo prof che ci aiuta e brava brava invece al collega siete riusciti a lavorare in equip questa esperienza l'avete inserita nella programmazione curriculare avete fatto degli incontri extra abbiamo fatto degli incontri extra perché ripeto se magari più studenti avessero manifestato interesse avremmo potuto inserirlo anche nella programmazione curriculare siccome solamente Giulia si è proposta allora abbiamo fatto degli incontri extra quindi è stato interessante anche anche per voi ripeto il paradosso l'ho conosciuto l'anno scorso quindi perfetto io non so se i nostri ospiti Lorenzo tu vuoi intervenire fallo in qualsiasi momento eh va benissimo gestisci tu mi sembra la cosa migliore a questo punto sei in aula comunque se ho qualcosa di prendi il microfono quando vuoi bene e voi avete domande richieste no tranquilli non è un'interrogazione non è che gli dobbiamo mettere un voto però siete curiosi qualcosa che vi incuriosisce di di questa esperienza il paradosso di Olberts abbiamo detto che lo conoscevano in pochi magari potrebbe essere l'opportunità per riprenderlo e magari farne un po' ossere o qualcosa di di diverso rispetto magari alla semplice che non è proprio semplice dimostrazione matematica però insomma bene allora io prenderei il diploma che consegno volentieri a Giulia e a Edoardo del liceo scientifico democrito leggo la motivazione con cui la commissione ha attribuito il premio il saggio si distingue per il rigore metodologico e la coerenza argomentativa con cui illustra il paradosso di Olberts presente in modo chiaro semplice e preciso le ipotesi ottocentesche riguardanti la struttura dell'universo e possibili modelli a confutazione del paradosso nonché la moderna interpretazione in chiave relativistica complimenti bene l'altro elaborato l'altro saggio che abbiamo premiato è stato presentato dall'istituto di istruzione superiore Leonardo Da Vinci prego il gruppo che ha lavorato e la collega o i colleghi che hanno lavorato qui siamo in presenza di un saggio corale prego ragazzi e ragazze che in realtà si distingue per la trasversalità perché hanno proprio lavorato sul concetto di paradosso allora la domanda vale prima facciamo parlare prima i ragazzi poi la collega come avete scelto il taglio come avete lavorato chi vuole iniziare a descrivere l'esperienza vai nome Marco Marco vai io intanto metto il tuo saggio vai ok allora noi abbiamo deciso di argomentare diversi paradossi perché appunto volevamo che si intraprendesse un percorso interdisciplinare infatti abbiamo analizzato diversi paradossi sia dell'ambito fisico sia dell'ambito matematico che dell'ambito appunto filosofico attraverso un lavoro che fosse al contempo sincronico e diacronico sincronico perché abbiamo fatto un excursus di questi paradossi partendo appunto da quelli del passato partendo dall'antichità con Zenone e i paradossi della Freccia e di Achille e la Tartaruga passando poi più avanti nel tempo anche con i paradossi di Olbers il paradosso della toleranza di Popper e il paradosso di EPR quindi molto attuale anche in virtù del Nobel dell'anno precedente Chi? Il Nobel a chi? Ah Eh Nobel a quale Nobel? Della letteratura? No della fisica Ah della fisica certo Al contempo quindi sincronico ma anche diacronico perché possiamo vedere che nonostante stiamo parlando di paradossi talvolta anche antichissimi appunto di Zenone parliamo di oltre due millenni fa sono sempre attuali e infatti per capire anche l'attualità di questi paradossi bisogna riflettere semplicemente anche sull'etimologia della parola infatti il paradosso appunto dal greco parà che è contro e doxa ovignone rappresenta appunto ciò che non è un ostacolo vincolante della conoscenza ma invece è un ostacolo da superare quindi quello del paradosso è anche un percorso fecondo per la conoscenza poiché permette di capire e comprendere i limiti di un sistema di un ragionamento e di andare oltre quindi di proseguire e di andare avanti con la conoscenza dello stesso sistema e quindi anche con l'ampliazione di questo ok se vuoi passare il microfono e applauso se volete certo per carità ok come avete lavorato come vi siete organizzati anche per scegliere i paradossi non so avete ognuno ha lavorato su un paradosso chi su quello allora ci siamo di si fondamentalmente ci siamo divisi a piccoli gruppi e ciascuno ha scelto un paradosso cercando però di delinearne quella che era una linea un filo conduttore che poi avrebbe dovuto unire tutti e cercando anche di mantenere una forma unica che è stata poi appunto raccodata dalla professoressa che ha preso di fatti dei lavori che erano che erano centrati sull'argomento in forme magari leggermente diverse sintatticamente e le ha un po' giustate tu su quale paradosso hai lavorato in particolare ho lavorato sul paradosso EPR chi conosce il paradosso EPR eh dai dietro non vale dietro non vale qualche mano illustra il paradosso EPR in poche parole se puoi il paradosso EPR nasce da quello che è un articolo del 1935 di Einstein Podosky e Rosen tre fisici EPR EPR appunto come dall'acronimo che si che si chiedono di fatti quanto la quantistica possa essere una teoria una teoria completa questo qui è una domanda particolarmente attuale per il tempo in quanto la quantistica dal 1899 in poi dalla catastro per tra vellette in poi entrerà prepotentemente in quella che è della ricerca scientifica e ci sono con con fisici che saranno d'accordo con tale teoria anche e molti fisici che di fatti la osteggeranno tra questi troviamo appunto Einstein che osteggia di fatti la quantistica in quanto viola il viola alcuni dei principi fondamentali della relatività tra i quali appunto la località ovvero dati due eventi A e B perché possa esserci un effetto insomma un evento concreto A e B devono essere causalmente connessi dunque devono essere raggiungibili in spazi che possono essere percorsi andando al massimo alla velocità della luce il paradosso e PR nasce come paradosso proprio perché cerca di far capire quanto Einstein e Padoschi e Rosen reputassero questa cosa errata in quanto violava il principio di causalità ma la cosa ironica di questa vicenda è il fatto che questo che nasce come paradosso per confutare la quantistica di fatti va a rafforzarne quello che è comunque uno dei suoi dei suoi dati principi o meglio uno dei suoi elementi portanti che è appunto la correlazione e questo qui ha dimostrato una cosa che non è soltanto ascrivibile alla fisica in quanto negare il fatto che due eventi due eventi locali cioè negare la località in questo caso implica anche negare che negare che la casualità deriva solo dal luogo cioè significa che due eventi possono essere influenzati cioè meglio un evento può essere influenzato nonostante cioè da un qualcosa che non è necessariamente il loco quindi significa che paradossalmente potremmo essere influenzati da cose che di fatti non sono a noi visibili attualmente e quindi è una cosa fondamentale anche rispetto a quello che è il concetto di tempo che in filosofia soprattutto è particolarmente caro ma anche in fisica in quanto di determinismo direi anche siamo veramente liberi a questo punto in filosofia è particolarmente caro tale concetto in quanto appunto in quanto appunto ma anche in fisica in quanto la gravità quantistica è una scienza è una branca della fisica che si cerca di dimostrare tuttora ma che non si riesce per mancanza di strumentazione in tale branca addirittura si pone in dubbio il tempo come variabile quindi è un argomento sicuramente ancora attuale e poi che classe fate adesso? io io all'università fisica ah tu sei ah tu sei fisica fatemelo dire beh beh bravo complimenti quindi tu l'anno scorso eri in quinto e sei stato aggiunto a questo gruppo interclasse bene bene grazie e chi ha lavorato applauso si si chi è che invece ha lavorato al paradosso della tolleranza allora Arianna facciamo parlare Arianna stavolta vicino al microfono abbiamo quindi ci siamo organizzati in gruppi abbiamo diciamo scelto per ognuno un paradosso e noi abbiamo scelto il paradosso della tolleranza lo puoi illustrare brevemente chi lo conosce mamma mia quindi c'è proprio bisogno del concorso dei paradossi e abbiamo diciamo supponiamo una situazione in cui ci troviamo in una società che è tollerante e si trova a doversi scontrare con un diciamo un soggetto ipotetico che invece va a distruggere questa tolleranza della società che è intollerante esatto e quindi si dice qual è il limite di questa società tollerante che può tollerare questo personaggio intollerante e che quindi poi andrebbe a distruggere la società e diciamo appunto questo limite viene come posso dire viene viene assegnato il compito di stabilire questo limite dalle istituzioni quindi allo Stato che ha il compito di di punire diciamo questa intolleranza ed evitare la distruzione della società e quindi diciamo c'è una tolleranza che però è tollerante fino a un certo punto non è pienamente tollerante della società e quindi non è una società veramente o pienamente tollerante perché comunque deve escludere quelli che minacciano la sua stessa esistenza certamente e che cosa ha rappresentato per te lavorare a questo progetto? Allora purtroppo non sono stata presente quando c'è stata la conferenza a Roma l'anno scorso e quindi diciamo mi sono fatta raccontare dai miei compagni come è stato e penso mi sarebbe molto piaciuto essere presente e comunque ascoltare i paradossi che sono stati illustrati che poi mi hanno detto che è stata anche diversa da questa di presentazione quindi ogni anno cerchiamo di cambiare anche noi insomma di dare stimoli diversi con relatori diversi e anche giusto poi e quindi comunque mi ha molto appassionato come progetto anche perché sono entrata in una parte diciamo che non conoscevo benissimo e anche quando l'abbiamo affrontata in filosofia con la professoressa è un argomento che mi ha molto interessato e poi però diciamo non ho pensato ad approfondire quindi mi ha fatto molto piacere il fatto che ne ho avuto la possibilità con questo progetto notate delle differenze fra l'attività ordinaria che si fa normalmente la mattina in classe e l'attività che avete fatto il lavoro che avete fatto per questo progetto che differenza c'è ma a livello anche macroscopico insomma beh sicuramente in primo luogo c'è una grande parte di ricerca autonoma e il che vi fa anche rendere diciamo consapevoli di quello che state facendo perché magari quando c'è una persona esterna che vi spiega delle cose sembra quasi che rimane lì e quindi io l'ho trovato anche molto interessante da questo punto di vista il c'è stata didattica come esperienza formativa il fatto di ricercare le cose in maniera autonoma poi noi abbiamo fatto così poi se siete indirizzati da qualche professore forse anche meglio e noi comunque abbiamo lavorato in questo modo e siamo dotati anche penso tutti abbastanza bene e poi c'è stata anche la nostra professoressa che dal punto di vista formale ci ha aiutato molto con la stesura di tutto quanto la tesi io non l'ho detto prima ma i due modelli di saggio sono molto diversi perché naturalmente ogni disciplina ha le sue regole il saggio che è stato presentato da Giulia ha un carattere più matematico essenzialmente quindi alla classica struttura degli articoli scientifici di ambito matematico mentre il lavoro presentato da questo gruppo somiglia di più alle caratteristiche di un saggio filosofico che prevede diciamo i saggi scientifici hanno tutti più o meno una stessa struttura con una premessa un'ipotesi generale che si cerca di mostrare i vari argomenti a dimostrazione e poi le conclusioni finali ma diciamo però hanno delle accortezze anche strutturali di editing un pochino diverse quindi qui abbiamo a che fare proprio con un altro modello a questo punto chiederei alla collega di filosofia se come ha lavorato che cosa dal suo punto di vista di lavoro ha funzionato se ha lavorato con gli altri colleghi delle discipline scientifiche magari se c'è qualche suggerimento allora noi siamo partiti proprio dal post conferenza dell'anno scorso perché appunto come quest'anno era di carattere interdisciplinare quindi abbiamo detto lavoriamo cercando di mettere insieme le tre materie fondamentali del concorso quindi di lavorare sulla matematica sulla fisica e sulla filosofia quindi è stato il primo step dopodiché ci siamo domandati su qual è l'argomento di cui ci vogliamo occupare e quindi tutti quanti anche perché avevamo fatto queste questioni sia le avevano fatte in fisica alcune e in filosofia altre lo spazio e il tempo erano quelle insomma più congeniali e allora si sono messi a cercare ho detto cercate voi mi dite voi voi alla fine qual è l'argomento che più vi si addice anche rispetto alle materie no che meglio sapevano in qualche modo quelle quali potevano confrontarsi meglio quindi abbiamo fatto diciamo un primo giro in qualche modo e poi hanno cominciato a fare ricerca quando hanno cominciato a fare ricerca chiaramente c'era bisogno e questo secondo me è molto importante a livello scolastico perché spesso e volentieri io mi accorgo soprattutto in quinto quando arriviamo a dover preparare il powerpoint per l'esame di maturità o dobbiamo lavorare sull'interdisciplinarità dell'esame di maturità una delle problematiche è proprio riuscire a mettere insieme i vari pezzi e quindi mi sembrava proprio un buon esercizio in preparazione alla maturità ma in preparazione poi alla vita universitaria fondamentalmente e nel fare ricerca gli ho detto mi raccomando che siano saggi scientifici quelli che andate a cercare e dai quali attingete per poter scrivere la vostra parte quindi no wikipedia no internet eccetera hanno fatto un po' un lavoro di questo genere abbiamo creato una bibliografia fondamentalmente e a partire da quella poi si sono messi a lavorare la cosa positiva ma anche negativa del lavoro che quest'anno probabilmente non sarà un problema è il fatto di essere spesso a distanza perché poteva capitare che qualcuno fosse a casa per appunto malattia eccetera e quindi ogni tanto dovevamo in qualche modo spezzare il lavoro comunque fermarci però secondo me questa è una cosa molto positiva cioè partecipare a questo genere di concorsi permette ai ragazzi e alle ragazze di fare la prima esperienza di sesura di un testo limite del plagio perché per esempio c'è anche questo non andare a copiare perché altrimenti e quindi abbiamo fatto anche un lavoro come dire di educazione civica in questo senso e poi anche il confronto con le altre le altre discipline soprattutto chiaramente con la collega di matematica e fisica quindi questo è stato è stato fondamentale l'optimum sarebbe confrontarsi a livello di consiglio di classe ma sappiamo bene quanto la scuola abbia dei tempi molto difficili e veloci per cui come dire è il sogno bravi perché ci siete riusciti insomma comunque tutto sommato mettere insieme tre discipline e lavorare su paradossi diversi eccetera non è da poco abbiamo imparato tutti qualcosa quello sicuramente bene grazie domande richieste eccetera volete aggiungere qualcosa qualcun altro che non ha parlato vuole abbiamo dimenticato qualche aspetto secondo voi che vi ha dato soddisfazione comunque lavorare a a questo progetto no mi ha lasciato indifferente vi ha dato soddisfazione bene e allora leggo la menzione il giudizio con cui la commissione ha premiato questo prodotto il saggio indaga il contributo che alcuni paradossi hanno apportato allo sviluppo teoretico principalmente negli ambiti della filosofia e della fisica l'esame diacronico dei paradossi di Zenone della Chille e della Freccia di Olberts di Einstein Podosky Rosen e di Popper riescono a restituire con chiarezza e originalità l'intento interdisciplinare del lavoro che si completa anche grazie ad alcune illustrazioni esplicative anche le grafici ci sono piaciuti allora chiedo lo consegno materialmente a voi al fisico e grazie allora Lorenzo ci sei? sempre mi ricordo di dire qualcosa? ma mi sembra che sia andata molto bene mi fa molto piacere che i ragazzi siano rimasti contenti e gli insegnanti anche e quindi quello che vi inviterei a fare è anche divulgare attorno a voi la notizia e l'esistenza di questo bando perché è la vostra partecipazione che lo rende vivo quindi non esitate a farlo quello che non è no che è emerso ma forse va ribadito è che è un grande impegno per i docenti che seguono perché poi di fatto è un'integrazione un più rispetto all'attività ordinaria quindi questo c'è da dirlo sicuramente per quanto i ragazzi poi possano debbano lavorare in autonomia comunque c'è dietro un'assistenza una facilitazione un controllo del lavoro che richiede lavoro aggiuntivo per i docenti ma anche lavoro aggiuntivo per i ragazzi ma mi sembra che poi il premio finale cioè l'esperienza la crescita formativa sia un adeguato ricompensa poi per il lavoro e l'impegno di tempo svolto allora le registrazioni di questa mattinata fra qualche giorno saranno online sul sito e metteremo il link sul sito del concorso dei paradossi quindi potete rivederlo potrete utilizzarlo per prendere spunto per avviare il lavoro anche i relatori di questa mattina ci consegneranno le slide dei materiali utilizzati e anche questi verranno caricati sul sito del concorso quindi vi chiediamo insomma vi consigliamo di viverlo di praticarlo di cliccarlo e dove troverete tutte le informazioni per tutto il resto speriamo insomma di ricevere i vostri lavori con noi con grande entusiasmo perché insomma vedere dei giovani delle giovani menti che si mettono alla prova su questi argomenti che a volte sembrano molto distanti per noi è un gran piacere una grande soddisfazione io direi che possiamo chiudere la mattinata anche se siamo un po' in anticipo noi rimaniamo qui se qualcuno può in maniera informale si vuole avvicinare a me o ai relatori abbiamo ancora una mezz'oretta di tempo ma insomma chiuderei la mattinata ringraziandovi ancora una volta per essere venuti per essere per aver seguito in maniera perfetta questa mattinata e in bocca al lupo per tutte le vostre cose vi aspettiamo alla premiazione dell'anno prossimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti